Buon pomeriggio, benvenute le colleghe e i colleghi che sono connessi da remoto e benvenuti i colleghi che sono qui in aula e anche i tanti amici che hanno voluto essere con noi a questo incontro. E' un incontro al quale come tesoriere ma soprattutto come coordinatore della Commissione di esecuzioni immobiliari tengo in modo particolare perché introduciamo credo per la prima volta nell'ambito del Consiglio dell'Ordine un tema di grandissima attualità che è a monte di tutta l'attività che svolgono poi i colleghi sia come avvocati, consulenti, delle società che cartolarizzano e delle società di servizio che poi svolgono la gestione attiva di recupero ma anche poi riguarda il settore delle esecuzioni immobiliari come ricaduta. Affrontiamo oggi il tema dei crediti deteriorati, NPL, UTP e così via, vedendo un po' qual è lo stato dell'arte e la possibile riorganizzazione del sistema. Chi svolge attività nell'ambito della consulenza degli istituti bancari ha dovuto vivere negli ultimi anni, negli ultimi decenni, direi un cambio epocale rispetto a quando abbiamo cominciato questa attività. e si è completamente trasformato il mondo dei crediti bancari, della loro gestione, del loro recupero, arrivando fino alla tematica di oggi, quella dei crediti deteriorati. Lo spunto che ha dato origine a questo incontro è stato il dibattito che si è aperto mentre tutti noi eravamo in vacanza, felicemente in vacanza, quando sono arrivate le notizie, in realtà già giravano, lo vedremo nel corso di questo incontro, i disegni di legge che analizzeremo oggi, ma è cominciata a entrare in giro la notizia che qualcosa che era contenuto nei disegni di legge sarebbe stato introdotto all'interno di qualche provvedimento governativo urgente. e questo ha subito provocato un grande trambusto in tutti i player del settore, qui ne abbiamo diversi, quindi ognuno di loro analizzerà questo punto di vista secondo la propria prospettiva. Questo pericolo sembra che poi è venuto meno perché abbiamo anche avuto rassicurazioni, mi pare, aperte dal Presidente del Consiglio, quindi è venuto meno il pericolo, poi approfondisco che vuol dire pericolo, ma comunque è un tema sul quale è importante intervenire, perché è sicuramente qualcosa che dovrà essere affrontato da chi opera nel settore. E devo dire che è molto interessante per noi avvocati, e questo è stato un po' il cambio epocale, eravamo prima interessati a essere coinvolti nel procedimento soltanto quando arrivava il credito in sofferenza da parte dell'ufficio legale di una banca, a poco a poco si sono introdotte una serie di nuove figure, le workout unit, tutto il processo di cartoralizzazione che richiede adesso all'avvocato la necessità di conoscere esattamente tutto quello che c'è a monte di quella che è poi l'attività di consulenza e l'attività di recupero del credito. Quindi sono molto contento di questo primo incontro e il mio ringraziamento va a tutti i redatori, in particolare devo dire, non si offendano gli altri, per primo al collega Dino Crivellari con il quale abbiamo pensato insieme e costruito questo incontro che vuole essere il primo di una serie di incontri su questo tema nel quale di volta in volta incontreremo tutti gli altri operatori del settore e quindi questo è solo un primo appuntamento nel quale poi vogliamo aprire altri momenti d'incontro e poi nel corso dell'incontro anche presenteremo quella che è un'idea che abbiamo avuto di organizzare all'interno del Consiglio dell'Ordine, della Commissione Esecuzioni Immobiliari un vero e proprio osservatorio NPE che poi possa analizzare tutte le varie situazioni, criticità, elaborare dossier e non ultimo anche fare proposte concrete alla politica delle istituzioni. Questo però ne parleremo oltre. Io prima di introdurre il tema voglio espressamente ringraziare tutti i redatori che sono qui sferenti, ho già presentato il collega Dino Pivallari, abbiamo con noi il dottor Cosimo D'Arrigo, consigliere della Corte di Cassazione che è già stato diverse volte ospite del nostro Consiglio quindi la sua presenza è sempre gratissima, il dottor Marcello Grimaldi, presidente di Unirec, il dottor Guido Lombardo che è amministrato delegato di Gardand Investort e ci si collegherà da remoto il dottor Antonio Mattio che è membro del comitato esecutivo del Lance. Poi abbiamo con noi il collega Roberto Tieghi che è un partner dello studio Pantozzi Associati. A me il compito di introdurre il tema che ha fatto da motore a questo incontro, poi come vi dicevo in apertura i nostri redatori, ognuno dal proprio punto di vista, analizzerà quelle che sono le problematiche, le criticità e le prospettive di superamento e di soluzione dei vari disegni di legge che sono stati appunto presentati nel corso dello scorso anno in Camera e Senato e che poi hanno fatto così tanto preoccupare gli operatori del settore. Il primo è il disegno di legge 1246 che è stato presentato nel corso di questa legislatura e che vi vado a illustrare molto velocemente. prevede all'articolo 2 che il creditore debba dare comunicazione scritta al debitore dell'intenzione di cedere il credito. Entro 30 giorni, prevede sempre l'articolo 2, il debitore può chiedere di concordare una transazione a saldo e stralcio non inferiore al valore contabile netto. In assenza il creditore può cedere il credito liberamente. Entro 15 giorni il creditore deve comunicare appena di inefficacia della gestione il prezzo concordato. Poi anche questo sarà un argomento di analisi da parte dei nostri relatori. Il debitore può pagare l'equivalente e pagando si libera le garanzie. Prevede poi sempre un coma dell'articolo 2, il creditore non può rifiutare la proposta transattiva se l'importo è il valore netto in bilancio aumentato di un decimo. Poi abbiamo varie norme che riguardano il contenuto dell'atto, le sanzioni che la Banca d'Italia può combinare e anche il particolare importante è che la copertura, le GAGS, si trasferisce agli altri crediti che rimangono nel portafoglio. Questo è il primo disegno di legge. Poi abbiamo altri due disegni di legge che in realtà sono identici. Uno alla Camera, il 843, e uno al Senato, il 415. Il secondo presentato il 16 dicembre dell'anno scorso e l'843 il 31 gennaio del 2023. Questi disegni legge, che ripeto sono sostanzialmente identici, prevedono che riguardano i crediti deteriorati, cioè quelle esposizioni scadute da oltre 90 giorni, è prevista poi una soglia di rilevanza. Il debito non deve essere superiore a 500 euro o superiore all'1% dell'esposizione totale dell'impresa. E si applica soltanto, questo anche sarà motivo di discussione, ai crediti deteriorati classificati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021. Poi parla questo disegno di legge di chi è soggettivamente implicato in questa operazione, la persona fisica o la micro-impresa o le piccole e medie imprese. E prosegue, si applica soltanto alle cessioni e cartolarizzazioni, si sarebbe dovuto applicare alle cessioni e cartolarizzazioni concluse entro il 31 dicembre 2022. Cosa prevedeva questo disegno di legge? Il diritto del debitore di estinguere, singolarmente o complessivamente, fino a euro 25 milioni, la propria posizione debitoria mediante pagamento a saldo di quanto dovuto di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della cessionaria aumentato del 20%. Poi l'articolo 2 prevede come si determina il valore della posizione debitoria e come si determina il prezzo di acquisto. Disciplina anche il disegno di legge le modalità di esercizio di questo diritto di opzione, per cui il cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare per iscritto al debitore e la venuta cessione della posizione debitoria, comunque non oltre 10 giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto e anche la documentazione atta a comprovare la completezza e la vericità di quanto dichiarato. Effetto importante della mancanza di questa comunicazione è che il soggetto cedente e la società cessionaria non possono appena in unità avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, quindi con un violento e serio effetto nei confronti delle procedure esecutive. Questo esercizio del diritto deve essere comunicato da parte del creditore entro 30 giorni e il termine massimo di pagamento non deve superare i 90 giorni. Vi sono poi delle rome transitori alla quale si può fare riferimento guardando poi, leggendo, vi ripeto, sono due disegni di legge che trovate tranquillamente sul web, sono il 414 e l'843. Poi abbiamo un terzo disegno di legge, il 669, presentato al Senato, che riguarda però i crediti deteriorati con copertura di garanzia immobiliare, quindi sostanzialmente i crediti ipotecari. Abbiamo all'articolo, questo decreto legge introduce una novità molto interessante, abbiamo come sempre all'articolo 1 la definizione di credito deteriorato di fondo immobiliare e di valore netto contabile, mentre l'articolo 2 prevede un nuovo meccanismo per la soluzione e il trattamento degli EPL, ovvero delle inadempianze probabili. Si tratta in sostanza di un'operazione negoziale trilaterale, che è conclusa tra i creditori, i debitori dei crediti deteriorati e i fondi immobiliari. Tramite questa operazione un fondo immobiliare compra dal proprietario debitore l'immobile posto a garanzia del credito deteriorato. L'acquisto libera integralmente il debitore dai suoi gramagri verso il soggetto creditore. L'articolo 3 individua i valori a cui deve essere parametrato il prezzo di vendita dell'immobile, posto a garanzia del credito e le agilizzazioni fiscali a favore dei fondi immobiliari e riconosce la possibilità di concedere in locazione l'immobile oggetto dell'operazione per 10 anni all'ex proprietario, ad un canone annuo non superiore al 5% del prezzo di acquisto dell'immobile. L'ex debitore che decide di prendere in locazione l'immobile riceve dal fondo un'opzione per il riacquisto dell'immobile della durata di 10 anni ad un valore prestabilito. Poi l'articolo 5 riconosce l'obbligo per il creditore, una volta intervenuta l'estinzione del credito deteriorato, di provvedere tempestivamente alle rettifiche presso la Banca d'Italia. Questi sono i disegni di legge che stanno animando il dibattito di tutti coloro che operano nel settore e sono quelli che appunto mettiamo qui in mezzo al tavolo dei nostri discussant relativamente a quelle che sono le loro rispettive posizioni. Quindi do la parola al dottor Cosimo Darrigo per la sua relazione appunto dal punto di vista dell'operatore qualificato. Buongiorno, benvenuti, grazie agli organizzatori, grazie al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha inteso accendere un riflettore su un tema che come diceva l'Avvocato Voltaggio raramente sta all'attenzione della formazione professionale perché in qualche modo viene sempre ancora visto nell'alveo delle discipline processual-civilistiche dell'espropriazione forzata, da dove invece il fenomeno dei crediti deteriorati nel loro complesso ha una valenza sistematica, organica e interdisciplinare che travalica certamente i limiti del tradizionale approccio di formazione. Mi ha fatto piacere essendo io qui nella duplice veste non solo di conoscitore, operatore pratico della materia ma anche di direttore del comitato scientifico della fondazione Lucio Papirio che peraltro edita la rivista Nexecutivis che molti di voi conosceranno visto che viaggia su quasi 100.000 accessi al mese e che è totalmente gratuita, si occupa dell'espropriazione forzata con un occhio particolare al tema dei crediti non-performing e quindi mi fa particolare piacere che in questa organizzazione ci sia stata questa sinergia che non è la prima volta che si verifica e mi sembra che ogni volta che c'è questa occasione di lavorare insieme si confezionano temi e incontri di particolare interesse. Io sono il primo a parlare e chi parla per primo ha un dovere d'educazione nei confronti degli altri cioè di non bruciare tutto quello che gli altri potranno dire per cui io mi tratterrò e più che svolgerò una relazione farò solo delle brevi considerazioni introduttive semmai riservandomi di intervenire dopo se ci dovesse essere qualche spunto di riflessione che nell'ambito del dibattito possa essere approfondito. Il punto di riflessione e il punto di partenza è rappresentato dai disegni di legge che l'avvocato Voltaggio ha a grandi linee già illustrato. La prima cosa che mi viene in mente è quanto affermava ripetutamente il cancelliere Otto von Bismarck del Reich il quale al tempio di Guglielmo II andava ripetendo che due cose il popolo deve assolutamente ignorare la prima è che cosa ci si mette nei wustel e la seconda è come si fanno le leggi e in effetti la sensazione che viene dalla lettura di questi testi di legge che si siano stati confezionati più o meno come dei wustel di scarsa qualità cioè utilizzando come involucro quello del populismo di dare un messaggio che sembri essere volto a risolvere un problema un disagio avvertito da una parte della popolazione e dall'altro riempendolo di frattaglie non meglio identificate. Perché questo giudizio così tranciante? Perché è evidente che chi ha pensato queste norme non ha la più palleria di che cosa si stia parlando, non sa come funziona il settore o il mercato dei crediti deteriorati, non sa soprattutto perché si origina e forse ignora pure che il problema sociale avvertito diffusamente e per il quale si giustificano certamente dei possibili interventi economici a sostegno delle fasce della popolazione più disagiate non è un problema sociale avvertito trasversalmente da tutti coloro che hanno mutui bancari, anche io ne ho due, ma è un problema avvertito da chi non è nelle condizioni di pagare o talvolta non intende pagare. Ora, a prescindere da qualsiasi giudizio etico sul indebitamento che non venga soddisfatto, il che ci porterebbe molto lontano e probabilmente implicherebbe anche delle riflessioni che vanno su una sensibilità etica diversa da quella attualmente corrente, ma al di là di questo il dato vero è che dal punto di vista pratico il sistema finanziario del paese si regge sulle banche e questo è un dato evidente non solo in Italia ma direi ovunque nel mondo occidentale le banche istituzionalmente sono i soggetti che inseriscono liquidità nel circuito al fine di far circolare l'economia. Nel momento in cui il sistema dovesse essere scardinato dal suo interno, cioè prevedendo in qualche modo che l'eventuale inadempimento non è cosa così grave, si può rimediare in qualche modo. L'effetto che ne deriverebbe è che ovviamente leviterebbe all'inverosimile il costo di accesso al denaro perché questo rischio di insolvenza fra virgolette legalizzata, perché poi alla fine i disegni di legge questo fanno prevedono un meccanismo per il quale il debitore può rendersi ampiamente inadempiente nel senso che se la sua posizione è deteriorata, pesa sui bilanci della banca, la banca per rispetto dei principi di Basilea sulla vigilanza prudente è obbligata a disfarsi dai propri bilanci di questi pesi che generano ingenti riserve e immobilizzano capitale. Quindi c'è una genesi che è dovuta a una logica di sanità e prudenza nell'attività bancaria, quindi a rendere i nostri sistemi bancari, quelli europei, più solidi. Da questa esigenza si genera una massa di crediti che iniziano a circolare fuori dai bilanci delle banche perché fin tanto che restano nella pancia della banca il problema non si pone perché queste norme sono tutte sostanzialmente scritte immaginando che i crediti stiano costituendo o abbiano già costituito oggetto di una cessione ad un soggetto terzo rispetto all'originario creditore, quindi nei confronti di un cessionario e quando questi crediti circolano hanno un costo che tiene conto del rischio di insolvenza. Quindi chi lo compra ha ovviamente chiaro che se compra un portafoglio al 30, 40, 20% del suo valore nominale a seconda delle garanzie che lo assistono, della tipologia dei crediti e quant'altro sa che per recuperare l'investimento fatto scontandolo del tempo solitamente lungo per la riscossione forzata dei crediti dovrà confidare su un rientro maggiorato di un certo punto percentuale che non sarà uguale per tutti i debitori. Ci saranno debiti che non si potranno riscuotere e che saranno in perdita e ci saranno posizioni creditorie sulle quali si otterrà quel rientro che fa funzionare l'operazione. Nel momento in cui i debitori, quelli che hanno qualche possibilità economica in più, vengono messi nelle condizioni di liquidare la propria posizione non al valore nominale originale ma a quello per il quale è stato acquistato il loro credito in mezzo a molte altre migliaia alle volte posizioni di debiti destinati in larga parte a restare insoddisfatti quindi ad un valore veramente vile, questo significa che io sto in qualche modo legalizzando una forma molto ampia di inadempienza civile. Me ne esco pagando una percentuale minima del valore del mio credito più una maggiorazione simbolica che certamente non va a far quadrare i conti di un business plan di una operazione di cessione di crediti. Ora è chiaro che in una logica di questo genere la sensazione politica perché alla fine questa è una discussione di politica giudiziaria, di scelte di fondo che si vogliono fare a livello legislativo è che queste iniziative strizzano l'occhio a un elettorato che certamente ha bisogno di sostegni economici solo che come spesso capita poiché lo Stato vorrebbe dare dei sostegni ma non ha il modo di poterli dare ne ribalta il costo sull'impresa. In questo caso è l'impresa creditizia e in molti altri casi un imprenditore qualsiasi, pensate quanti oneri gravano economicamente su qualsiasi attività di impresa tanto da scongiurarne quasi l'attività, l'apertura di nuove attività. È chiaro che il nostro Paese non è un Paese per industrie, non è un Paese che ha delle prospettive di sviluppo economico perché nel momento in cui qualunque costo sociale lo va a ribaltare sulle imprese ovviamente rende difficile l'attività di impresa ma ciò che è ancora più evidente è che poi diventa un costo sociale cioè che le imprese per continuare a fare quello che facevano lo dovranno ribaltare sull'utente finale. Quindi cosa accadrà? Che avrò un rischio di insolvenza più alto e a questo punto dovrò calcolare dei tassi di interesse che terranno costunto di quel rischio di interesse più alto per cui lo spread fra il tasso base e i tassi praticati dalle banche si andrà ad impennare per cui il normale cittadino che facendo molti sacrifici cerca di acquistare per esempio la prima casa impegnandosi seriamente a pagare il mutuo contratto in una misura non superiore alle proprie capacità economiche che oggi lo può fare dopo che il sistema creditizio dovesse essere stravolto da iniziative di questo genere probabilmente dovrebbe sostenere un costo del denaro talmente elevato da diventare difficile per quella fascia della popolazione meno abbiente l'accesso al credito e quindi a pagare l'effetto della insolvenza di pochi saranno molti ma quei molti appartengono alla stessa fascia economica disagiata a cui appartengono i pochi solo che anziché ragionare con la logica contragga un debito e poi si vede se pago perché tanto male che vada me lo estingo allo stesso prezzo al quale un operatore finanziario comprerebbe un portafoglio con 10.000 posizioni tra le quali molte di valore zero tagliato invece pensano di contrarre un mutuo con l'idea di pagare regolarmente è ovvio che alla fine il danno che si creerebbe all'utenza finale ai cittadini che hanno bisogno del supporto del sistema finanziario anche per realizzare i loro piccoli progetti individuali familiari e quant'altro dall'abitazione della famiglia alla piccola impresa eccetera e sarebbe di gran lunga più grande del vantaggio procurato a pochi cioè a quella ridotta percentuale di soggetti che attualmente non adempiono regolarmente loro impegni economicamente assunti. Altre soluzioni sarebbero certamente più ragionevoli basate su una maggiore elasticità o generalizzazione delle procedure di composizione del sovraindebitamento quindi basate su posizioni soggettive studiate ad hoc in base alle capacità patrimoniali del singolo debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento ma certamente la generalizzazione di uno degli strumenti individuati in questi disegni di legge non mi sembra possa rappresentare una soluzione non solo corretta ma anche banalmente avveduta direi per l'appunto che chi ha immaginato e messo in circolo queste disegne queste proposte di legge molto probabilmente lo ha fatto o ignorando completamente le dinamiche della materia o conoscendole e ben sapendo che si sarebbe trattato di slogan elettorali insuscettibili di essere convertiti in testi di legge ed infatti sembra che il governo abbia preso le distanze da questi disegni di legge e non li voglia portare avanti nessuno di essi ma la verità è che il terreno è scivoloso perché è sempre difficile dire se quando parte una qualche iniziativa peraltro anche abbastanza trasversale speculare su entrambe le camere del parlamento eccetera sia siano semplicemente fuor d'opera scappati dalla punta della penna di qualcuno o siano delle fughe in avanti concordate per buttare una pietra nello stagno e preparare una soluzione normativa magari meno dirompente ma pur sempre ispirata a principi che sarebbero sovversivi della logica che regge il sistema economico nazionale questo è un po' quel che mi sembra essere il quadro generale col quale ci dobbiamo confrontare per tenere fede all'impegno preso cioè di non entrare nel merito delle discussioni per non pregiudicare chi parlerà dopo di me mi avvio alla conclusione però non senza aver ribarcato alcune chicche che si trovano sparse nei testi nei disegni di legge anzitutto i due disegni di legge gemelli quelli 414 del senato e l'843 della camere deputati contengono un articolo 1 che discrive finalità e ambito di applicazione della presente legge ora io sinceramente ho una certa avversione forse una vera e propria idiosincrasia sulle leggi che spiegano che fine vogliono perseguire perché immagino che se io legislatore ho bisogno di spiegare qual è lo scopo per il quale sto facendo la legge e perché evidentemente quella legge non è capace di raggiungere quello scopo altrimenti sarebbe palese dalla lettura dell'articolato normative non avrei bisogno di fare una norma non precettiva perché le finalità non hanno nessuna valenza operativa solo per spiegare qual è la fine qual è il fine che vorrei raggiungere queste cose le finalità dovrebbero stare nelle relazioni illustrative accompagnatorie non nel testo di legge e infatti tanto è vero che il legislatore bleffa che con una certa dose di 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 faccia tosta dice che la presente legge serve ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e esattamente il contrario serve a impedire la possibilità del recupero naturale dei crediti a sofferenza o meglio a definirli ad un prezzo che è intollerabile per il mercato bancario e finanziario e a contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale ed è esattamente il contrario perché nel momento in cui vado ad incoraggiare la insolvenza legalizzata altro che favorire lo sviluppo economico è esattamente il contrario considerate che il nostro sistema è un sistema molto appetibile per investitori stranieri sul settore dei crediti deteriorati appena sono uscite queste riforme di legge già c'è stato ma chi sono molto meglio di me lo potranno dire gli addetti ai lavori dal lato finanziario un attimo di fibrillazione dei mercati perché se fossero passate avanti tutto quello che era l'oggetto della circolazione sui mercati dei finanziari si sarebbe andato a far bene dire e infine l'accesso a favorire la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie le piccole imprese e i professionisti benissimo a quale costo al costo di ribaltare su di questi tutto la perdita economica derivante dalle definizioni agevolate dei crediti deteriorati non al valore della garanzia prestata ma al valore di acquisto perché badate bene il vero problema è questo che mica si sta dicendo siccome tu hai prestato una garanzia di 100 sei debitore per 150 ma potrai chiudere a 100 che è già una cosa che per i crediti ipotecari potrebbe avere una sua logica io prescindo totalmente questi disegni di legge dal valore della garanzia prestata questa indirettamente secondo il legislatore dovrebbe concorrere a formare il prezzo al quale il cessionario acquisterebbe la posizione debitoria ma siccome poi si annacqua nell'ambito di un intero portafoglio in realtà è un dato quasi totalmente irrilevante e quindi io potrei aver dato ipoteche molto importanti poi il mio credito viene ceduto a terzi salvo i beni ipotecati per i quali avevo costituito garanzie reali sarebbero una cosa importante le garanzie reali ma invece a questo punto non valgono nulla perché vado dal cessionario e gli dico guarda tu hai pagato il credito valeva mille l'hai pagato 20 ti do 21 stati buono perché ti basta e ti avanza e mi pare che sia una soluzione abbastanza quantomeno originale ma soprattutto il tutto è fatto nel rispetto della normativa europea in materia vorrei chiedere ai signori autori di questa brillante prefazione finalità delle norme in questione quale sarebbe la normativa europea che prevede la insolvenza legalizzata e a me viene in mente la normativa europea in materia di crediti deteriorati o meglio mi vengono in mente le istruzioni della BCE sulle rivolte alla tenuta dei bilanci delle banche ma dicono esattamente il contrario cioè dicono che si devono ripulire i bilanci dalle crediti deteriorati cedendoli o cartolarizzandoli mentre l'effetto opposto di questa prospettiva legislativa è esattamente il contrario cioè che a quel punto le banche non cederebbero più i crediti quindi in contrasto con la direttiva con le direttive della BCE perché sin tanto che se le tengono a bilancio loro con il debitore avrebbero un prezzo di negoziazione che è pari al valore nominale o quantomeno a quello della garanzia prestata mentre nel momento della cartolarizzazione o della cessione dei crediti in blocco o anche delle cessioni individuali il cessionario avrebbe come parametro di riferimento per lui vincolante il prezzo al quale ha acquistato quella posizione maggiorato del 10 o 20% a seconda delle proposte peraltro faccio presente che in realtà non è neanche vero che il cessionario è vincolato al prezzo per il quale ha acquistato quella posizione ma al prezzo dell'intera cessione nella quale si calcola qual è l'incidenza percentuale della posizione del singolo debitore e si scorpora così dal valore della cessione il valore della posizione senza considerare che quel prezzo del portafoglio è stato fatto vuoto per pieno cioè considerando crediti esigibili e crediti inesigibili se io pago io sto nella categoria dei crediti esigibili ma il mio prezzo di acquisto per me debitore che vado a transigere con il cessionario viene stato calcolato considerando anche il valore zero di tutti quelli che stanno nel mio stesso portafoglio ma sono considerati totalmente inesigibili per cui non è neppure vero che il prezzo che vincola il cessionario è quello davvero pagato per la posizione del debitore ceduto ma altri altra considerazione ma perché a questo punto diventa anche abbastanza divertente le parti si possono mettere d'accordo per transiggere siamo ora di segno di legge 1246 della Camera dei Deputati però il creditore non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo coincida con il valore netto in bilancio di uno dei crediti maggiorato del 10% quindi esattamente qual è il margine della negoziazione fra l'1 e il 10% del valore di acquisto non è vero che è una transazione o che è una libera negoziazione alcune particolarità che sono abbastanza divertenti disposizioni in materia fiscale sono sanzioni non sono disposizioni nel momento in cui io dico che se non faccio una determinata cosa non mi posso scorporare e portare in deduzione il costo del debito è una sanzione non è una poi qua abbiamo illustri rappresentanti del foro che potranno tornare sul punto meglio di me ma direi che si tratta di vere e proprie sanzioni esercizio del diritto d'opzione da parte del debitore nei segni di legge dei gemelli in mancanza della predetta comunicazione il cedente e il cessionario o meglio la società cessionaria se il cessionario è una persona fisica evidentemente la norma non si applica non so bene perché quindi è facile favorire i fenomeni di usura perché se sono un usuraio una persona fisica lo posso fare se sono una società sottoposta a vigilanza no però buontà loro evidentemente avranno le loro buone ragioni per ritenere che le persone fisiche siano più affidabili delle persone giuridiche sottoposte a vigilanza in mancanza non possono appena di nullità ricordiamo la nullità processuale che è quello che vale avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e che significa questo perché il bello è che la comunicazione a mancanza della quale le azioni esecutive sono nulle va data comunque non oltre dieci giorni dalla cessione il che significa che se a me sfugge il decimo giorno prendo il credito e lo metto nel tritacarte perché a quel punto la comunicazione data l'undicesimo giorno non sembrerebbe avere alcuna efficacia sanante della condizione che determina la nullità delle azioni esecutive eventualmente intraprese quindi quel credito diventa inesigibile mi sembra delle soluzioni forse anche un po' trancianti che meriterebbero particolare attenzione ma l'ultima delle cose sulla quale io da civilista non riesco a trattenermi dal dire una parola in più è che le transazioni devono essere fatte appena di nullità per iscritto e meno male che ce l'hanno detto perché evidentemente non si ricordavano che nel codice civile c'è scritto che le transazioni si devono fare per iscritto quantomeno ad probazione però hanno ritenuto necessario precisarlo per così dimostrando ampia conoscenza del sistema civile del quale si peritano di mettere le mani io ho finito grazie consiglio Enrico il quale ha avuto il coraggio penso l'abbia usata quattro volte questa frase parlare di insolvenza legalizzata ora l'analisi che noi faremo è un'analisi tecnica non politica però l'articolo 1 in cui parlava il consigliere Enrico è ancora meglio esplicitato nella relazione introduttiva del disegno di legge che dice chiaramente lo ripeto non è un giudizio di carattere politico spiega realmente qual è il senso di questi interventi che è un senso come posso dire di venire incontro ad esigenze che vengono colte nel nel cittadino nella popolazione si parla di sistema sociale produttivo italiano gravato purtroppo da una restante zavorra finanziaria nel 2018 un milione e duecentomiglia soggetti famiglie professionisti imprese avevano debiti ormai dettoriati fino a parlare si usa il termine stalking bancario e è un po' alla pari con l'insolvenza legalizzata dico no però poi sempre la reazione parla di tre soggetti in campo in questa operazione soggetti diversi con diversi rapporti di forza le banche che sono costrette ad accedere i crediti deteriorati a prezzi estremamente bassi i soggetti debitori e i soggetti finanziari che lucrano in questa duplice debolezza lucrano sembra una cosa cattiva ma fa parte dell'attività economica anche lucro con margini di guadagno francamente inaccettabili dico questo per dire una cosa molto importante al di là delle frasi usate dalla politica dal legislatore sicuramente il tema l'argomento che stiamo affrontando necessita di una riorganizzazione completa che però tuteli gli interessi di tutti e tre gli attori di questa vicenda quindi tenga conto anche di coloro non solo di coloro che sono indebitati ma anche di coloro delle imprese che hanno investito hanno fatto dei business plan sul tema e quindi hanno un movimento un lavoro dietro che va comunque rispettato nel senso che il diritto il legislatore deve essere un buon legislatore deve saper tenere l'equilibrio da tutte queste esigenze in quest'ottica si inserisce proprio l'ho riservato a volte per fare un minimo di intervento però me lo gioco subito il jolly il legislatore parte dall'idea che le banche siano dei soggetti abbastanza sprovveduti i quali sono costretti a vendersi i crediti ma proprio vengono rapinati dai recuperatori dei crediti i quali astutamente li riescono a convincere a svendere questi crediti ad un valore infimo mentre loro recupereranno l'intero valore nominale del credito ora questa è una favola che non è credibile per mille ragioni la prima delle quali è che noi siamo in un'economia di libero mercato il prezzo si basa sull'incontro fra offerta e domanda se davvero queste operazioni fossero così straordinariamente lucrose ci sarà certamente un altro operatore che sarà disponibile a lucrare altrettanto un euro in meno e via così fin tanto che il vantaggio ricordiamoci che le società commerciali hanno scopo di lucro altrimenti non sono società commerciali quindi il lucro non è una cosa un'accezione negativa è una cosa che forse il legislatore dovrebbe chi fa leggi dovrebbe sapere che fa parte del sistema diciamo è normale che il prezzo allora la verità è che e questa era la considerazione che volevo fare il prezzo a volte molto vile al quale vendono venduti o svenduti dalle banche i crediti deteriorati non dipende dalla astuta furbizia del recuperatore del credito che li trae in inganno facendosi vendere l'oro delle miniere del Perù in cambio di specchietti e biglie di vetro colorate non stiamo parlando di conquistadores e indios ma stiamo parlando di un recuperatore che poi dovrà scontare in una logica attualizzata il costo della percentuale di realizzo del credito e i tempi di realizzazione del credito cioè quello che nella matematica finanziaria dà luogo alla cosiddetta loss given default cioè sostanzialmente quanto recupererò e quando recupererò rispetto al valore nominale del credito ora se ci pensate quanto e quando soprattutto il quanto ma per quello che dirò fra poco anche il cioè il quando ma per quello che dirò fra poco anche il quanto dipendono dall'organizzazione degli uffici giudiziari cioè dallo stato se io avessi un sistema nel quale le procedure esecutive immobiliari o comunque le procedure di recupero crediti durano come Gran Bretagna sei mesi pignoramenti immobiliari poche settimane l'espropriazione di crediti a quel punto il mio business plan avrebbe un respiro completamente diverso io so che andrei a recuperare una percentuale molto alta del valore nominale quantomeno rapportata al tempo perché se io recupero l'80% del valore nominale ma lo recupero fra 10 anni io per 10 anni ho tenuto un capitale immobilizzato e 10 anni sono un valore in termini di interessi tali che annulla il margine di profitto che potrei avere anche nell'ipotesi di un'esecuzione particolarmente fortunata e fruttuosa quindi se io ho una struttura giudiziaria che non è in grado di esitare in tempo breve il recupero crediti è da là che nasce la struttura del sistema quindi se io fossi un legislatore avveduto e se dentro il viustel ci metto davvero la carne di maiale fina e non le frattaglie che trovo in giro di qualsiasi genere di mammifero e non solo e a quel punto io quello che penserei di fare è una riforma strutturale del processo esecutivo mentre noi continuiamo a vedere riforme cosmetiche un poco di cipria una limatina alle unghie un ripasso di Rimmel ma alla fine ora non si dice più Rimmel ai miei tempi ora si usano altri termini che creano il che creano una maggiore lasciano quasi invariata la tempistica del recupero dei crediti io sono stato audito dalla commissione riforma in vista della riforma cartabbia e in quell'occasione io ho fatto presente una cosa cioè che statisticamente parlando una quota molto piccola di pignoramenti pendenti in Italia ora non ricordo le cifre ma diciamo il 10% forse neanche il 5% rappresentano il 40% del patrimonio immobiliare pignorato perché ci sono pignoramenti tutti quelli che hanno ad oggetto beni di valore superiore al milione di euro sono una percentuale minima ma che rappresentano in termini economici una quota quasi pari alla metà del valore dei beni pignorati ecco quelle procedure che sono quelle che farebbero il vero prezzo del portafoglio compravenduto sono quelle che in assoluto subiscono il maggior depreciamento al momento delle aste perché perché le procedure esecutive sono immaginate per vendere il piccolo appartamentino di periferia del valore di 200.000 euro se io dovessi comprare un complesso alberghiero per comprarlo con la logica del processo esecutivo anziché con la logica del libero mercato dove le regole contrattuali sono completamente diverse il prezzo un prezzo base un prezzo calcolato a 2-3 anni sul got sul gop c'è tutta una serie di formule matematiche che inglobano l'andamento il rendimento l'avviamento eccetera se io invece compro un immobile chiuso disabitato senza esercizio senza continuità di esercizio per il quale devo fare lo start up eccetera e lo compro come se si è in contanti come si compra l'asta in sostanza a quel punto lo compro solo se ci sono stati almeno 6-7 ribassi altrimenti non compro è il sistema che è sbagliato è il sistema che dovrebbe dire per certi tipi di immobili si vende tramite commissionario si vende con le tecniche proprie competitive rispetto al libero mercato si realizza il più possibile a quel punto il valore di realizzo dei crediti sale le banche non svendono i loro portafogli questo margine di lucro che nella sostanza non esiste diventa però più nitido nel senso che diventa proporzionata una procedura esecutiva più importante e a quel punto probabilmente chi si pone in quelle fasce disagiate che subiscono il pignoramento del piccolo appartamentino del monolocale avrebbero si agio a poter negoziare meglio le loro posizioni marginali rispetto al valore di un portafoglio ed invece oggi è il contrario perché nel valore del portafoglio quello che fa volume economico sono i mini appartamenti perché sono l'unica cosa che all'asta si vende subito questo è il dato concreto è un sistema giudizialmente sbagliato e quando ho rappresentato queste cose in commissione mi è stato risposto sì sono molto interessanti ma non abbiamo il tempo di farle ora perché la riforma deve partire in tempi molto brevi grazie consigliere il tema che ha introdotto lo affronteremo sicuramente come commissione esecuzioni immobiliari anzi avevamo intenzione di organizzare per il prossimo anno una giornata proprio di studio sulle esecuzioni immobiliari è un problema che non possiamo affrontare ora ma è anche collegato alle risorse basterebbero più risorse più magistrati più cancellieri piuttosto che una riforma del processo e adesso vogliamo sentire l'opinione degli operatori del settore dalla parte finanziaria quindi do con piacere la parola al dottor Marcello Grinaldi presidente di Unirec Unione Nazionale a tutela delle imprese del credito che immagino ci darà uno spaccato della opinione appunto delle società che si occupano del recupero crediti per quanto riguarda questi principi che se non sono diventati oggetto di un provvedimento governativo però aleggiano all'interno della discussione della politica e quindi lo ringrazio ancora per la sua presenza e gli do con piacere la parola prego presidente grazie grazie per l'invito l'occasione è preziosa è interessante confrontarsi direttamente sui testi quindi grazie agli organizzatori io qui porto un po' l'opinione come dicevamo degli operatori del settore Unirec appunto dicevamo è l'associazione di confindustria che raccoglie gli operatori che sono autorizzati ex articolo 115 del TULPS a gestire conto terzi i crediti appunto affidati si tratta di una vera e propria industria noi gestiamo siamo 194 società rappresentiamo l'80% del mercato gestiamo 200 miliardi di euro 160 miliardi in conto terzi e di questi 106 miliardi sono in conto terzi cessionario quindi di fatto sono gestiti proprio in quello che definiamo il mercato secondario cioè gestiamo per conto di chi ha acquistato i portafogli l'acquisto da parte delle società 115 è molto limitato perché soggetto a determinati limiti insomma previsti da un decreto ministeriale noi per lo più gestiamo conto terzi e nello specifico non performing loans non performing exposures li gestiamo dentro questo 106 miliardi di cui dicevo in quanto operatori specializzati questo giusto per dare uno speccato mi fa subito mi hanno subito colpito le osservazioni del dottore D'Arrigo sul sul testo e anche quanto diceva l'avvocato voltaggio in relazione ai danni che possono produrre questi disegni di legge beh dirò che i danni sono già stati prodotti spiegherò un po' i motivi per questo l'allarme che ha reso un po' veramente inquieta quest'estate questo agosto quando diciamo il consiglio dei ministri del 7 agosto il consiglio dei ministri che forse è più noto per la tassazione degli extra profitti delle banche si era paventata ventilata la possibilità di affiancare questo un testo normativo ecco diciamo che in realtà trova le proprie origini già nella precedente legislatura perché il testo oggi affirma l'onorevole congeto scusate io li nomino per primo firmatario non per numero insomma i famosi disegni di legge gemelli per come le abbiamo definiti mutuano un testo che il senatore urso oggi ministro aveva già presentato nella scorsa legislatura e quindi già il 7 agosto si era paventata questa possibilità che questo tipo di testo entrasse nella decretazione d'urgenza il 7 agosto è andata bene panico veramente preoccupazioni per il consiglio dei ministri del 28 agosto perché sembrava in realtà che il passo successivo fosse un intervento verso o meglio con riguardo alla materia dei crediti deteriorati da qui la grande preoccupazione ci siamo esposti anche diciamo in più sedi per fare presenti le preoccupazioni le preoccupazioni che nascono si potrebbe dire vabbè è facile dal punto di vista degli operatori del settore difendere la posizione però sono preoccupazioni in realtà sistemiche che nascono da considerazioni anche più più alte oltre che a quelle strettamente operative dirò ci sono delle considerazioni giuridiche a monte di questi disegni di legge e della loro difficile sostenibilità l'abbiamo un po' visto nella lettura che abbiamo dato i disegni di legge chiamavano così gemelli quelli a firma dell'onorevole congedo e del senatore salemi sostenuti in definitiva dalla maggioranza ecco sono quelli in definitiva più preoccupanti proiettano i propri effetti e la propria operatività nel passato cioè hanno un'efficacia retroattiva riguardo nei crediti deteriorati l'abbiamo detto classificate in sofferenza dal 2018 insomma al 2021 e le operazioni concluse di cessione entro il 2022 è di tutta evidenza che c'è un'efficacia retroattiva una violazione insomma di principi a noi tutti noti mi sembra pure inutile in questa sede citarli mi sembra superfluo però ecco questa efficacia retroattiva in un intervento che in definitiva appare come un intervento imposto di imperio su un equilibrio contrattuale sinceramente va anche a violare principi generali come la libertà di iniziativa economica l'autonomia negoziale me l'ho insegnata è espressione di questa libertà la compromissione dell'autonomia negoziale è evidente laddove facciamo riferimento ai disegni diciamo gemelli disegni di legge gemelli viene introdotto un diritto di opzione ex legge non previsto nell'originario equilibrio contrattuale né previsto dalla disposizione sulla cessione dal codice civile quindi sicuramente delle riserve sotto il profilo giuridico che se vogliamo si estendono anche a un'altra considerazione che in realtà mi sono trovato a fare con esponenti del mondo consumeristico con le associazioni dei consumatori questi provvedimenti riguarderebbero i debitori ceduti la cui posizione è stata oggetto di cessione ma riflessione perché questo sistema agevolato spetterebbe al debitore oggetto di cessione diciamo debitore ceduto e non non agli altri qual è il criterio di distinzione io debitore ceduto per un'occorrenza contabile mi trovo ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione ho possibilità di fruire di un regime agevolato a differenza insomma di altri che non ne fruirebbero una vera e propria violazione del principio di eguaglianza e tutto sommato anche le associazioni dei consumatori con cui un dialogo devo dire quasi quotidiano per altre ragioni hanno avanzato le loro perplessità sul testo abbiamo capito la finalità probabilmente lo strumento gli strumenti ipotizzati non sono non sono utili dico il panico nel settore perché è stato generato l'abbiamo detto l'abbiamo un po' fatto intuire il mercato dei non performing loans delle non performing exposures chiaramente vive grazie a investimenti e a investitori che hanno deciso di raccogliere la sfida di acquistare dei portafogli che quindi vengono affidati in gestione ai servizi insomma alle società che fanno parte di di unirec l'efficacia retroattiva quello poi alla fine è il problema determina che l'investitore non ha più il ritorno atteso perché come dicevamo prima ogni operazione giustamente è dietro un business plan che peraltro fa parte degli allegati contrattuali dei contratti di servicing e introdurre ex legge o le transazioni o il diritto di opzione su determinate posizioni fa saltare tutte le previsioni o le stime ed in caso insomma per essere più tecnici gli incassi attesi cambiare le regole del gioco non è bello quindi a prescindere dal settore dei non performing loans certo sul piano insomma degli investimenti dall'estero ne abbiamo obiettivamente risentito ma proprio come sistema Italia perché il grido d'allarme è arrivato anche da Bloomberg sul Financial Times insomma cambiare le regole del gioco non è ovviamente compressibilmente piacevole le banche d'altro canto sono e non possono che essere parimenti preoccupate quindi stiamo parlando di soggetti ben diversi dei servizi perché un tipo di intervento costruito in questo modo costruito utilizzando come parametri di riferimento il prezzo di cessione piuttosto che il valore contabile nell'ultimo bilancio della banca di fatti crea delle distorsioni tali per cui o gli investitori non investono più oppure se vorranno investire comprando ancora un qualche portafoglio certo non pagheranno un prezzo appetibile o interessante saranno prezzi molto bassi perché devono interpretare inevitabilmente il rischio di una norma o di un disegno di legge che chiaramente può cambiare un po' le regole del gioco mi piace sottolineare per questo dico che i danni sono stati già prodotti nella stipula quotidiana dei contratti che capita di fare nell'attività lavorativa al di là dell'attività associativa già gli investitori si preoccupano di inserire clausole di salvaguardia gli investitori chiamano per avere spiegazioni su cosa sta accadendo in Italia ecco la preoccupazione che è nata diciamo nel settore dal nostro punto di vista quindi andando a vedere proprio le attività di servicing e quindi le attività di gestione del credito è chiaro che un esercizio del diritto di opzione facciamo riferimento alla proposta insomma sostenuta dalla maggioranza piuttosto che quella dell'opposizione ovviamente finisce per tagliare fuori un lavoro prezioso che è quello svolto dalle associate dalle associate unirec perché è un lavoro di valutazione di equilibrio tra le pretese creditorie e le difficoltà del singolo del singolo debitore ma è ancora più assurdo il sistema perché a ben pensarci anche se non si arrivasse le soluzioni proposte dai disegni di legge esercizio del diritto di opzione piuttosto che transazioni o altre soluzioni comunque questi disegni di legge hanno e presentano la stortura di voler comunicare o meglio di obbligare a comunicare al debitore il prezzo di cessione o comunque il valore della posizione nell'ultimo bilancio della banca questo cosa comporta delle distorsioni a livello di negoziazione cioè quello che noi facciamo è negoziare sul valore nominale tenendo conto di quanto chiaramente il debitore dimostra e documenta sovente arriviamo a soluzioni di distraccio saldito stralcio chiaramente con l'autorizzazione del del creditore però aver detto che comunque il cessionare ha pagato un prezzo e questo prezzo è un prezzo che sicuramente parte del valore nominale chiaramente determina un saltare definitivo della negoziazione che non può essere più correttamente impostata proprio perché nel patrimonio informativo del debitore c'è un altro valore quindi la preoccupazione nasce proprio dalla costruzione dei disegni di legge dico non mi soffermo per poi non togliere argomentazioni anche a chi specificatamente nel settore c'è un impatto direttamente sui conti pubblici e sappiamo bene insomma che il settore delle GAC ha rilievo ha rilievo e ha permesso quel processo di derisking che sicuramente è un processo virtuoso nel nostro sistema è soluzione di questo tipo hanno impatto direttamente sui conti pubblici non peraltro anche perché ci sono società come AMCO che sono partecipate direttamente dallo Stato e che fanno questo di business comprano comprano portafogli quindi in realtà sono posizioni e disegni di legge criticabili nelle loro parti al di là anche della stessa formulazione che come vedete come è stato brillantemente dimostrato sovente risulta veramente infelice detto questo sicuramente l'errore è di fondo cioè aver considerato come parametro di riferimento ma lo diceva molto meglio di me il dottor Derrigo il prezzo di cessione il prezzo di cessione è un prezzo che esprime il rischio del recupero cioè per essere parlare proprio in maniera molto spicciola i crediti deteriorati sono crediti morti o in fin di vita non è detto che comprando viene tutto recuperato o recuperato l'importo al massimo anzi diciamo su 100 posizioni comprate se ne recupererà parte due tre uno sulla base di una determinata importo altro sulla base di altro importo quindi il prezzo di cessione esprime il rischio della mancata recuperabilità delle posizioni piuttosto che le spese di gestione che ora non vado a enumerare ma basti pensare alle operazioni di cartolarizzazione a quanto incidano le spese per organizzare e per gestire le operazioni stesse quindi questi sono sicuramente gli aspetti che lasciano perplessi in questo tipo di intervento che però mi piace sottolineare sembra non considerare quanto sia veramente virtuoso il processo di derisking posto in essere in Italia in Europa gli operatori ci invidiano quello che siamo riusciti a fare abbiamo realizzato cessioni per 352 miliardi di euro di non performing exposures che ora sono sul mercato secondario quindi abbiamo liberato o meglio il processo ha consentito di liberare le banche da un peso veramente incredibile l'MPI ratio quindi la percentuale dei crediti deteriorati sul complessivo dei crediti delle banche dal 17% del 2015 è passato dati banca IFIS non nostri UNIREC al 3,1 nel 2022 quindi qualcosa ha funzionato nel sistema Italia perché inficiare proprio questo tipo di sistema con iniziative che probabilmente nascono insomma probabilmente per altri per altri per altri fini l'ultimo aspetto e vengo a chiudere non vorrei dilungarmi troppo però mi sento di specificarlo anche perché è un po' alla base di quanto ho vissuto personalmente è che però tutte queste proposte e tutte le iniziative e diciamo anche gli incontri personali fatti sembrano prescindere da una modifica generale una riorganizzazione generale che del mercato secondario sta per esserci che è la direttiva 2167 la direttiva NPL che deve essere implementata entro fine anno cioè è una direttiva che riguarda i crediti deteriorati quindi sembra quasi che il legislatore nazionale sia partito verso una direzione senza tener conto che put a caso c'è un framework uno scenario che sta per essere attuato e che impatterà direttamente sui crediti deteriorati la direttiva NPL cambierà che riorganizzerà il mercato secondario richiede nuove autorizzazioni per svolgere l'attività di gestione dei crediti per conto dei cessionari autorizzazioni che presumibilmente saranno in capo a Banca d'Italia una riorganizzazione del mercato tra diciamo servici autorizzati e fornitori di servizi esternalizzati ma soprattutto è una direttiva che prevede tutta una serie di presidi e tutele a favore del consumatore anche delle piccole e medie imprese per ottenere la famosa autorizzazione a gestire i crediti deteriorati sarà necessario avere un'organizzazione interna avere policy di trasparenza e di tutela del consumatore e occorrerà dare prova di questo allora forse questo è il messaggio con cui mi piace chiudere ritengo sarebbe più saggio più equilibrato più sensato per essere effettivamente crudo aspettare che la direttiva sia implementata che la direttiva dopo l'implementazione abbia avuto un suo periodo di operatività e quindi diciamo ragionare su ulteriori interventi nelle more qualcosa si può fare ma abbiamo degli strumenti nel nostro ordinamento che sono interessanti lo dicevamo proprio prima lo diceva il dottor D'Arrigo il codice della crisi dell'insolvenza ha recuperato tutte quelle misure che erano previste dalla legge 3 del 2012 quindi cercando di valorizzare gli strumenti stiamo parlando delle sdebitazioni piuttosto che della liquidazione controllata del sovraindebitato ci sono strumenti come la cartolerizzazione a valenza sociale che già esistono nella legge 130 ma non sono stati attuati quindi in realtà o hanno trovato scarsa applicazione quindi la mia idea sarebbe attuiamo la direttiva ragioniamo se c'è qualcosa da fare con interventi correttivi ma su quanto già esiste senza stravolgere un mercato che invece è un mercato evidentemente virtuoso faccio presente da operatore che già anche se non è norma debitori accampano per evitare di pagare come motivazione non pago perché tanto ormai è imminente il condono da parte del governo quindi dovete pensare già a quale danno per il settore il solo lancio di queste iniziative di governo ha prodotto mi fermo grazie grazie dottor Vimaldi colgo al volo la sua la sua segnalazione il prossimo appuntamento che ci daremo a questo punto non può che essere dopo l'implementazione della direttiva quindi per vedere appunto e parlare di questa ipotesi di cui parlava correttamente di riorganizzazione del mercato tra l'incudine e il martello nell'ambito di quello di cui stiamo parlando dei segni di legge ci sono le società di gestione del risparmio quindi do volentieri e con piacere la parola al dottor Guido Lombardo che ringrazio per la sua presenza e amministratore delegato di Gardant Investor appunto società di gestione del risparmio prego Buonasera a tutti grazie prima di tutto per avermi invitato in questi luoghi prestigiosi prima di tutto io non sono un tecnico della legge ma applico tantissimo quello che viene imposto sia dei regolamenti europei che italiani e in particolare in questo caso colgo la provocazione di questa proposta di legge perché in effetti non è stata pensata bene diciamo così e spesso non per essere cinico il contenuto non si capisce bene cos'è il vero risultato desiderato perché se uno volesse aiutare i debitori lo farebbe in maniera diversa detto questo direi che la provocazione che io per natura in passato ho fatto l'investitore il gestore ho acquistato venduto le gestioni e quindi queste realtà e queste situazioni abbiamo viste e vissute in vari momenti anche con proposte di legge che potrebbero sembrare dirompenti fatto sta che l'Italia è un paese molto flessibile la finanza è molto creativa gli italiani in finanza sono molto creativi e anche se dovesse passare questa legge esattamente com'è che è completamente inattuabile abbiamo sentito per varie ragioni ci metterei una settimana con un buon avvocato per trovare una soluzione che permetterebbe lo stesso risultato delle sessioni precedenti quindi uno si chiede perché fare tutto questo che è tanta confusione quando uno potrebbe ricreare lo stesso risultato in maniera diversa e in particolare i punti da identificare e uno fa un minimo percorso per identificare chi sono le controparti perché identificando le controparti uno riesce anche a capire cosa si può fare e per quale ragione la proposta non può funzionare e cosa potrebbe funzionare abbiamo sentito i creditori i creditori sono quelli originari che è erogato e anche quelli che per una ragione o per l'altra diventano titolari il credito e dico ragione per l'altra perché ci potrebbero essere fusioni ci potrebbero essere risoluzioni abbiamo sentito bail-in abbiamo vissuto bail-in cartorializzazioni cessioni tutta una serie di ragioni per cui il creditore cambia e questo creditore può avere vari motivi di esistere e uno di questi ma non è l'unico è di preservare il valore del credito e di andare a valorizzare l'incasso futuro però uno deve considerare anche chi è il creditore per cosa è il suo motivo il gestore abbiamo sentito giustamente che ci sarà una riforma è importantissimo che il gestore ci sia una identità trasparente ad oggi abbiamo persone che si presentano a creditori che non si sa se lavorano per il creditore o per il debitore si presentano come gestore e poi si vendono come amici del debitore solo per dopo trovare maniera per fargli pari commissioni e questa assenza di trasparenza non crea valore anzi lo distrugge crea incertezza e direi sospetto e il sospetto non è amico di una soluzione equa come penso che la più parte delle soluzioni dopo più di 20 anni se noi manteniamo come obiettivo di trovare sempre una soluzione equa o accettabile per entrambi dovrebbe essere l'obiettivo principale i debitori i debitori sono in tutte queste leggi in questa norma qua è sempre l'oggetto di tutto il contendere però sono anche coloro che creano il valore a tutta questa operazione perché il credito inizialmente nasce facciamo sempre il classico esempio 100 euro e i 100 euro vengono a loro o dai beni che hanno a garanzia quindi dimentichiamo quasi sempre l'importanza del debito in tutta questa equazione e quindi l'attività del service che serve a convogliare il debito verso una soluzione e qui ho il problema più grosso con questa norma questa proposta di norma perché se prendiamo un esempio di un debito 100.000 euro dunque arrotondiamo le nostre famose 100 lire e immaginiamo che questo era molto ipotecario su 20 anni su 20 anni c'era una quota capitale una quota interessi ma l'importo da rimborsare mettiamo che si è arrotondato a 5 o 6 all'anno su questo 100 e chiaramente la proposta si indirizza a debito e che non ce la fanno quindi non sono riusciti a pagare loro 5 o 6 all'anno questo stesso credito avendo mutuo un'ipoteca sottostante è probabile che sia ceduta a un investitore per un valore attorno a 30 facciamo come ipotesi perché? perché io come investitore dico ci impiegherò tempo dovrò spendere i soldi riuscirò a spingere all'asta il bene e forse il bene si venderà 50 o 60 l'ipotesi e quindi lo compro da unicredito a 30 ma se la legge dice al debitore questo grande diritto vantaggioso al debitore di rilevarlo a 36 io sono un debitore che non ce la faccio a pagare 5 o 6 all'anno e di colpo mi vedo come grande opportunità di trovare 36 come li trovo? e quindi l'unico obiettivo di questa legge secondo l'unico risultato pratico di questa legge è che i debitori dove vedono che il valore della casa è ancora capiente perché c'è anche questa variabile saranno spinti a trovare 36 a qualsiasi costo letteralmente e quindi usura mi spiace dirlo perché questi debitori essendo debitori di sistema bancario e non avendo rispettato le rate è impossibile che si possa in debitore con un'altra banca un altro intermediale creditizio sono tutti sui registri dei debitori che non hanno pagato non hanno accesso al credito quindi se uno gli propone di trovare 36 di colpo in 90 giorni cosa fanno? come fanno? dunque qualcuno che ha inventato questa soluzione non si è posto il problema ovvero si è posto dicendo ah è vero perché questa legge gira da anni abbiamo fatto già questo segnato questa incongruenza e hanno detto ah inventiamo il fondo perfetto inventiamo il fondo ma questo mitico fondo dove li trovi 36? prima domanda cosa vuole ottenere l'investitore di questo fondo? anche loro un guadagno e sentiamo dire che voglio essere remunerato al 5% benissimo se io remunero 36 al 5% per 10 anni quanto ho pagato di affitto e non ho neanche più la casa come debitore e quindi alla fine finirò per arrivare a 80% 90% del debito iniziale alla fine di 10 anni non avendo né la titolarità della casa e avendo solo l'opzione di comprare la casa al valore di mercato chiaramente quindi mi sembra hanno recuperato in un tentativo di trovare la soluzione all'istante hanno creato un'altra opportunità per far cosa? per guadagnare ancora in più alle spalle del debitore quindi questa norma qua che sembra evidentemente o dichiaratamente come a favore del debitore non lo è proprio matematicamente non lo è non lo può essere perché può essere solo a colui che non avendo pagato ha risparmiato i 36 per tirarli fuori i 90 giorni ma allora chi stiamo aiutando? quelli che venite in difficoltà o quelli che semente usano la norma per approfittarne? quindi io sono dell'idea che bisogna aiutare chi è in difficoltà e costerebbe molto di meno farli in maniera molto più semplice perché se prendiamo gli stessi mutui gli stessi numeri che ho detto prima se arriverebbe a un calcolo semplice per dire che lo Stato italiano con 50 milioni all'anno non miliardi 50 milioni all'anno aiuterebbe 10.000 debitori a pagare la rata per un anno vogliamo aiutarli per 10 anni? sono 500 milioni sono sempre 10.000 individui 10.000 famiglie che hanno bisogno che non dimentichiamo che la dimensione di un mutuo italiano medio è 300 150 mila euro quindi sono cifre veramente minime che uno potrebbe mettere in una legge bilancio favorendo proprio chi ne ha bisogno ma fatta bene anche lì la legge dice vogliono aiutare i debitori e poi nei debitori mettono 25 milioni di limite non credo che tante persone hanno un mutuo prima a casa di 25 milioni quindi la legge a che cos'è il vero scopo chi vuole aiutare e per quale ragione tanto vale che si ha chiarezza di cosa uno vuole ottenere perché la forma tecnica c'è e tra l'altro sono forme tecniche che usiamo anche indipendentemente dalla legge usiamo quotidianamente con i debitori le ristrutturazioni i rifinanziamenti le cessioni concordate del bene sottostante che fa anche rientrare a casa del debitore quindi l'esagerazione di rappresentare una crisi come solo colpa della vendita del credito era una maniera sbagliata perché non era vera sulla crisi dei debitori che c'è ma non è dovuto a quello è dovuto al fatto che non ce la fanno a pagare il mutuo allora affrontiamo il problema per quello che è e spesso queste incomprensioni e la semplice mancanza di fare il prossimo passo fa sì che si adottano soluzioni che non vanno molto lontane perché uno potrebbe passare questa legge il gran clamore si ferma completamente il mercato i debitori non pagano gli investitori non compono le banche dicono le banche dovrebbero svalutare perché non avendo l'opzione di vendere non essendo più strutturati per gestirlo internamente le banche andrebbero a svalutare l'effetto del calendar provisioning quindi sarebbe una situazione dove alla fine lo speculatore finisce a guadagnarci di più perché dall'assenza di trasparenza nel mercato di quanto vale veramente un credito chi ne approfitta chi può aspettare può farsi una propria idea e arriva all'ultimo momento con pochi soldi per comprare quindi paradossalmente una legge disegnata male scritta male concepita male ha l'effetto esattamente contrario a quello che uno vuole sia per il contenuto ma anche la forma e questo è un po' l'essenza di quello che volevo dire ma il punto principale è che tutti vedono l'industria finanziaria come contraria all'interesse del debitore noi ogni anno risolviamo decine di miliardi di posizioni in maniera perfettamente amichevole perché di fatti bisogna lavorare col debitore e questo il valore aggiunto che abbiamo come misto investitori servicer o rappresentanti di investitori è che se uno ha un approccio che svolta comprendere le ragioni e le motivazioni della controparte e questa comprensione reciproca rapporta sempre al rispetto reciproco e il rispetto reciproco in una trattativa soprattutto legata a soldi è fondamentale e se uno stabilisce questo rispetto reciproco si lavora bene in maniera cooperativa per trovare una soluzione in quale momenti non c'è possibilità di rispetto reciproco quando le intenzioni alla base del mancato accordo non sono trasparenti e quindi se il debitore ha difficoltà è stato sfortunato è stato coinvolto in situazioni che non controlla le soluzioni si trovano sempre se il debitore invece nasce con l'obiettivo di vedere quanto poco posso pagare come posso farla franca aspettando tanto tempo non si trova la soluzione un elemento che forse in questa sede può creare più scalpore che altro tutte queste situazioni leggi contro leggi negoziazioni perché sarebbero perizie contro perizie se uno parte sempre da 100.000 euro come mutuo medio quanto deve pagare il perito l'avvocato la controparte le commissioni della della SGR cioè finirebbe per pagare 10 sui 100 10.000 euro che oggi giorno se prende la somma di tutte queste attività professionali è poco dunque andremo a massacrare o l'investitore o il debitore con costi aggiuntivi per arrivare esattamente dove sono partiti ossia che a un certo punto il debito deve essere pagato il creditore vuole essere pagato però nel frattempo abbiamo creato un ulteriore livello di costi altissimo e quindi un costo per il sistema che rende appunto l'Italia come paese di investitore sempre meno attraente perché c'è incertezza e questa incertezza si traduce sempre con costi aggiuntivi quindi se vogliamo fare una legge è giusta farla e secondo me è giustissima farla per aiutare chi ha bisogno in maniera trasparente per creare meno livelli di costi e di burocrazia non più livelli di costi e burocrazia grazie grazie dottor Lombardo una relazione molto interessante che ci fa capire alcune cose la diciamo sempre questa ogni volta che analizziamo una nuova legge se il legislatore sentisse nel preparare qualche riforma qualche intervento legislativo gli operatori del settore forse troverebbe subito un'indicazione precisa su come risolvere il problema lei ha fatto l'esempio economico su come lo Stato potrebbe risolvere in altro modo a me è presente i due anni che questo testo tre anni forse la prima volta che questo testo gira o ci siamo fatti avanti noi o l'associazione o sono venuti a chiederci opinioni sono stati ampi opportunità di dialogo forse bisogna ben vedere il sistema delle audizioni che sono più un modo della politica per dire che hanno sentito le parti piuttosto che farsi consigliare seriamente in questo senso dicevo che dovremmo forse intervenire anche nell'ambito legislativo e in quest'ottica rientra quello di cui parlavo oggi volevamo lanciare un'iniziativa del Consiglio dell'Ordine dell'Osservatorio MPE cioè di un gruppo di avvocati del Foro di Roma specializzati nel settore perché per analizzare tutto ciò serve competenza e specificità nella conoscenza del settore proprio per dialogare insieme agli altri operatori del settore e provare anche a elaborare dei dossier dei suggerimenti delle proposte di carattere legislativo quindi è un'iniziativa che porteremo avanti come Consiglio dell'Ordine e praticamente il Dottor Lombardo ha detto sintetizzo il suo intervento questo intervento in questo intervento legislativo in pratica mina il sistema perché rischia di far saltare tutto il meccanismo di bloccarlo e poi l'ultima parte è molto interessante tocca soprattutto noi avvocati e il rapporto tra assistendo sia debitore che creditore a seconda delle varie posizioni il concetto della comprensione reciproca è molto importante entra anche nella deontologia dell'avvocato cioè entrare nella nella vicenda in modo in modo corretto non sollevando eccezioni sciocche quando non esistono sollevandole quando ci sono e entrando in questa forma di dialogo di comprensione tra debitore e creditore quindi è una una questione sicuramente da approfondire e grazie ancora dottor Lombardo dovremmo avere collegato da remoto il dottor Mattio mi sente? mi sentite? sì noi la sentiamo bene la vediamo benvenuto tra di noi la vediamo sia noi qui nella nostra aula che i colleghi connessi da remoto la ringraziamo per la sua presenza le do la parola appunto il dottor Mattio è membro del comitato esecutivo dell'associazione nazionale costruttori edili quindi è un altro occhio per vedere questi temi di cui stiamo dibattendo a lei dottor Mattio bene la ringrazio ringrazio naturalmente per l'invito il consiglio degli avvocati l'ordine degli avvocati di Roma e soprattutto di far parte anche di questi relatori di grande livello professionali quali sono quelli che hanno parlato e parleranno ancora oggi diciamo che da questo punto di vista mi trovo un po' nella tanna del lupo ecco perché noi io rappresento un'associazione che ahimè è stata un po' carne viva dove questa lama l'impacchettamento degli NPN ma soprattutto anche mi perdono il giorno Mattio la sentiamo bene se si avvicina un po' più al microfono la sentiamo meglio perfetto dicevo che quindi noi rappresentiamo un po' quella carne viva dove la lama di questo impacchettamento dei crediti di questi anni ci ha colpiti anche perché purtroppo noi veniamo da un periodo che a me è dalla famosa crisi finanziaria del 2008 da lì è partita una separazione purtroppo non consessuale tra il sistema bancario e le aziende che operavano soprattutto nel settore immobiliare io adesso sto parlando naturalmente del settore edilizio ed immobiliare non sto parlando di altri settori che possono essere sempre stati colpiti da questo credit crash allora che cosa succede succede che da questo punto di vista ad oggi chi ci ha guadagnato molto sono questi soggetti comunque questi fondi speculativi perché non dimentichiamo che acquisivano a delle percentuali effettivamente molto basse che però avevano conseguentemente la garanzia delle GAX cioè le garanzie della cartolerizzazione sofferenze che ha introdotto lo Stato a seguito naturalmente dell'orientamento da parte dell'EBA e della BCE perché questo orientamento di smobilizzo dei crediti quando gli studi anche da parte dei sindacati stessi degli istituti bancari hanno previsto che gestendoli chiamiamoli in house queste criticità queste difficoltà c'era una percentuale molto più alta di recupero però naturalmente la criticità era il tempo che si impiegava e soprattutto tutta una serie di personale all'uopo dedicato che per una serie di piani chiamiamolo così strategici dei vari istituti non hanno più potuto investire in questa direzione però quello che Ance ha sottolineato nel corso degli anni perché qua non dimentichiamo che c'era stata una prima commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario nel lontano 2016 poi ancora nel febbraio 2021 Ance ha sempre sottolineato che questa diciamo compravendita eccessiva di questi crediti poteva mettere in crisi buona parte del tessuto imprenditoriale soprattutto in un contesto economico caratterizzato da grandi crisi ora io purtroppo mi devo portare avanti coi lavori perché perché noi imprese stiamo vivendo una situazione con questo aumento dei tassi di interesse da parte della BCE che ok che potevano essere troppo bassi prima non ho metto un dubbio in passato ci sono stati sicuramente degli importi più elevati di tassi non lo nego ma un'accelerazione così elevata che nel corso di un anno si è arrivati fino a 4,50 punti base questo ammesso ma soprattutto i risultati di questa messa in difficoltà li vedremo sicuramente tra fine anno ma soprattutto nel prossimo semestre in grave e grande difficoltà anche quelle imprese che avevano grazie all'utilizzo del medio credito centrale impostato operazioni di consolidamento del pre-debito a seguito dell'emergenza covid con piani finanziari che una parte potevano prevedere un tasso fisso ed era un discorso altri gli istituti bancari hanno previsto dei tassi variabili quindi a cascata è poi sempre lo Stato che può avere dei seri problemi nei confronti di chi ha garantito nel caso dell'emergenza covid direttamente gli istituti bancari con le GAX sta garantendo questi fondi che acquistano dalle banche ora io non voglio entrare nel merito perché non ho né un linguaggio giuridico né ho le competenze tecniche o quant'altro di questi disegni di legge evidentemente comunque l'allarme che è stato lanciato dall'associazione di categoria è quello di dire in un qualche modo vediamo di come ha detto giustamente il dottor Lombardo nel finale venire incontro al debitore io sto parlando di un debitore principalmente adesso rappresento le imprese non soltanto il consumatore che comunque siamo anche considerati diversamente dalla legislazione italiana cioè il consumatore ha delle tutele che l'imprenditore naturalmente non ha però venire incontro venire incontro cosa significa? noi molto spesso siamo a richiedere la rinegoziazione non il saldo stralcio la rinegoziazione di tutta una serie di posizioni che possono ancora essere considerate in bonus ma sono già addirittura UTP attualmente il sistema bancario considero già il secondo stage cioè cliente in bonus sta pagando ma molto probabilmente potrà avere dei problemi in futuro mettiamoci l'aumento di tassi o quant'altro e allora se il cliente ha già dovuto magari usufruire di moratorie in determinati periodi o quant'altro la rinegoziazione è bocciata a priori perché? perché per la banca gli crea dei problemi naturalmente di parametri relativamente al capitale impiegato e fa sì che a quel punto lì dice la vostra posizione interna nostra semmai verrà accettata la rinegoziazione è di forborn ovvero non possiamo più effettuarvi operazioni direttamente con voi per almeno mi pare un periodo tra virgolette di prova di 24 mesi ma molto spesso questa rinegoziazione viene cassata a priori ora con questo aumento dei tassi che noi ci troveremo adesso per il futuro e le rate prossime perché molti istituti applicano che sono un Euribor a sei mesi a scadenza della rata semestrale quindi a dicembre si pagherà quello di luglio 2022 e a giugno del prossimo anno ci sarà quello di dicembre 2000 cioè scusate 2023 e dicembre 2023 quindi avremo sicuramente delle situazioni che definirle devastanti e utilizzare un economismo ora il fatto che sono sento diverse critiche dal punto di vista dei disegni leggi sono sicuramente migliorativi come ho già detto non rientro non voglio rientrare nel discorso del merito dico soltanto che nel Parlamento attuale mi pare che solo a livello di Camera ci siano circa 73 avvocati più altri 42 al Senato quindi si auspica a tutti più dottori commercialisti ne abbiamo tra Camera e Senato circa 22 rappresenterebbero per entrambe le categorie professionali oltre al 20% si augurerebbe che andassero in una direzione per cercare di risolvere il problema e non invece per aumentarlo perché da quello che ho sentito oggi si sta creando molte difficoltà per questi soggetti definiti anche investitori e però ribadisco che i grandi problemi e le grandi difficoltà almeno fino ad oggi le abbiamo continuate ad avere noi imprese ribadisco poi che nessuno vuole una così ha definito l'avvocato del Rigo insolvenza legalizzata siamo i primi a voler dire stiamo vicini alle imprese che e per questioni ho fatto l'esempio prima tassi di interesse aumentati in questo periodo qua non per diciamo operazioni errate da parte dell'imprenditore ma in questo momento sta cadendo il mondo addosso vediamo purtroppo che nella ciliegina sulla torta tra virgolette c'è una nuova guerra che sta iniziando purtroppo è già in corso abbiamo nuovamente speculazioni sui prezzi della materia prima nello specifico petrolio e nuovamente gas e quindi come vedete il cattivo imprenditore che ha fatto un investimento errato è giusto che debba restituire i denari che ha pagato e quant'altro se non è in grado è giusto che le garanzie che aveva proposto debbano far fronte ma l'imprenditore che invece aveva fatto tutto un piano di concerto con l'istituto ed è in questo periodo storico aumenta quadruplicata la rata per via di problematiche non diciamo correlate all'imprenditore stesso allora la parte dell'istituto ci vorrebbe maggiore possibilità e non so se a questo punto è un disegno di legge o una legge che la deve istituire oppure sono accordi a livello europeo con l'EBA nello specifico perché è poi quella che interviene in modo eccessivamente draconiano nei confronti degli istituti di credito quando procedono a queste determinate concessioni ecco quindi da questo punto di vista noi ci siamo poi trovati in difficoltà perché sempre andando avanti dal 2008 questa spersonalizzazione del credito ha fatto sì di considerare eccessivamente dei numeri siccome il dottor Lombardo prima ha fatto un esempio numerico vorrei fare anche un esempio numerico cioè se il credito della banca è di 100 e il debitore ne ha pagato non lo so 30 e a un certo punto non riesce più e non gli viene concesso una possibilità una rinegoziazione o quant'altro gli viene impacchettato questo su debito che corrisponderebbe a 70 e viene acquistato fatto ad esempio prima il dottor Lombardo a 30 senza poi tener conto che nel corso delle more del debitore la banca comincia ad ammortizzare la rata quindi l'insolvenza quindi che cosa accade che alla fine quando magari c'è la cessione il paradosso è che il cliente deve ancora 70 la banca 30 gli vengono dati dal fondo speculativo e la banca 40 li ha persi ma avendo già spesato prima questa mancata chiamiamo il pagamento da parte del debitore fa sì che avrà una sopravveniente una plusvalenza di 30 che è quello che corrisponde al fondo piccolo dettaglio che non ha incassato quei 40 che moltiplicati perenne volte fanno sì che molto spesso ci sono poi situazioni che gli azionisti devono mettere mano al portafoglio e procedere con aumenti di capitale nei confronti dell'istituto perché così facendo è vero che contabilmente addirittura hai un utile peccato che nella sostanza questi soldi non ti sono entrati quindi anche questo secondo me è un rapporto malato e a volte anche un po' incestuoso con questi soggetti perché non ci sono compartecipazioni dirette ma magari si opera non solo su quegli argomenti su quei settori lì nello stesso diciamo nello stesso settore ma si può anche operare su altre situazioni quindi si parla comunque lo stesso linguaggio quindi noi chiediamo una maggiore considerazione e tutela per le imprese soprattutto che sono in bonus che possano avere la possibilità di una rinegoziazione non vogliamo assolutamente passare come le persone che dicono adesso cerchiamo di speculare non paghiamo perché tanto entro fine anno molto probabilmente no almeno il sistema che io rappresento nella maggioranza dei casi dovrebbe essere questo che vi ho descritto vi ringrazio che mi avete anche ceduto la parola prima perché purtroppo un altro livello un altro appuntamento a livello istituzionale e quindi devo poi abbandonare i lavori grazie ancora di tutte le parti del rapporto di un rapporto molto complesso che non è più soltanto debitore e credore ma che adesso investe molte più realtà e adesso passiamo al al collega all'avvocato Roberto Tieghi partner dell'avvocato legale tributario fantozzi e associati per esaminare gli aspetti fiscali dell'NPL UTP non so se anche farà qualche cenno su quelli potrebbero essere gli impatti di questa di queste innovazioni legislative nell'ambito del settore prego grazie buon pomeriggio a tutti innanzitutto grazie al Consiglio dell'Ordine per l'invito grazie un grazie specifico all'avvocato Voltaggio io non ho preparato una relazione specifica su questi disegni legge premetto che in termini generali condivido l'opportunità che ci sia un qualcosa che rimetta nei circuiti bancari milioni di persone che oggi debitori garanti terzi che sono bene o male collegati al fenomeno degli NPL però la mia relazione ripeto non non tiene conto di queste previsioni fiscali che per esempio ci sono nel disegno 1246 primo firmatario avaccari nell'articolo 5 e forse in un altro ma premetto ancora che sono favorevolissimo al fatto che ci sia la leva fiscale che debba dare un incentivo all'accreditore sostanzialmente che si vede evidentemente a rischio una certa sua posizione e evidentemente questo ha bisogno di un ha bisogno di un come dire di un temperamento allora partirei però velocemente perché poi credo che il tempo sia come sempre tiranno dalla legge 30 aprile 99 130 ben nota credo a tutti i presenti ma che è sempre importante tenere presente nella prospettiva di una di una fiscalità che in qualche modo potrebbe essere potrebbe essere potrebbe avere ad oggetto un qualcosa fermo restando l'attesa della direttiva sui crediti deteriorati che sarà prima o poi attuata nel nostro ordinamento sappiamo tutti che in base a questa legge i crediti acquisiti dalla società di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato quindi con ogni probabilità in punto di fatto essendo sì la società di cartolarizzazione è una società di capitali è vero che in via di principio è soggetta all'imposta sul reddito è soggetta all'IRAP ma in concreto essendo tutto come dire finalizzato al patrimonio separato e dunque al soddisfacimento dei portatori dei titoli al recupero delle spese e a quant'altro diciamo così la logica del patrimonio separato è una logica contabile di un qualcosa sotto la linea di un qualcosa che non incide nel conto economico e nei conti principali della società ricordiamoci in proposito che lo stesso fisco con una circolare importantissima dei circa vent'anni fa la 8 del 6 febbraio 2003 ebbe appunto a dire che la materia imponibile poteva emergere soltanto al momento in cui l'operazione sostanzialmente si sarebbe completata e i flussi finanziari fossero stati diretti al soddisfacimento degli obbligazionisti o dei portatori dei titoli vorrei ricordare qui che se c'è indubbiamente in tutto questo contesto c'è un qualche cosa di molto pesante che è a carico collettività cioè a carico del fisco se ragioniamo sui numeri che conosciamo di circa 300 miliardi ma poi chiederò alla cortesia all'avvocato Crivellari di darci dei numeri magari più attuali se ci sono stati 300 miliardi all'arco di alcuni anni di svalutazione crediti appunto per insolvenza reale possibile o potenziale dei debitori questo ha dato luogo a svalutazioni che hanno portato a circa un 50% di ammontare da iscrivere nei conti economici questo 50% di 300 e 150 se applichiamo le aliquote medie tra Ires e l'Irap che non è un'aliquota sempre uguale ma insomma più o meno arriviamo a un circa 32-32,5% di incidenza fiscale e dunque potremmo già dire che su 300 miliardi con svalutazioni al 50% circa avrebbe il fisco e sicuramente è stato soggetto a questo impoverimento il fisco potrebbe aver perso circa 48-50 miliardi forse le cifre effettive sono tantino più alte ma diciamo che sono comunque dimensioni di questo genere quindi il fenomeno per il fisco è sicuramente un fenomeno estremamente importante allora nella prospettiva di che cosa possa fare il fisco fermo restando ripeto la opportunità al mio modo di vedere di introdurre una disposizione scritta bene scritta meglio articolata che dia maggiore magari libertà alle parti di negoziare e sempre l'ottica della trasparenza e della correttezza sostanziale nel rapporto tra debitore e creditore qui dobbiamo fare un paio di diciamo così alcune considerazioni sui due istituti che potrebbero essere presi in considerazione tenuto presente che c'è questa asimmetria fiscale perché da un lato io fisco italiano perdo il 32% delle svalutazioni e quindi stiamo parlando ripeto di decine di miliardi ma tutto ciò che viene recuperato dalle società di cattolarizzazione diciamo dai creditori dai cessionari di questi crediti può scontare se tutto fosse domestico fosse italiano sconterebbe un'aliquota attualmente del 26% come interessi ma tenuto conto che buona parte di queste operazioni avvengono con l'estero al massimo il massimo che ci consente l'articolo 11 del modello OXE che prevede la tassazione nel paese del percettore non nel paese della fonte ma è previsto che si possa essere un prilievo nel paese della fonte non superiore al 10% quindi un 10% sul recuperato contro un 32% sulle svalutazioni integrali iscritte nei bilanci significa comunque una differenza tra da 1 a 8 a 1 a 7 a 1 a 10 a seconda dei numeri che mettiamo nella proporzione mettiamo nel calcolo ma diciamo questo è comunque una perdita di gettito che non viene recuperata quasi mai sostanzialmente quasi mai allora vediamo quali sono i due istituti di cui potrebbe parlerò brevissimamente perché l'argomento è estremamente dico io la verità per primo estremamente noioso perché è un discorso di carattere così internazionale se vogliamo ben vedere perché perché recentemente in virtù di una modifica che è entrata in vigore nel 2017 e 18 è stata introdotta nell'ambito del concetto di stabile organizzazione un'espressione nel comma nell'articolo 2 nel comma 2 pardon comma F bis un qualche cosa che collega alla presenza di una stabile organizzazione identifica la presenza di una stabile organizzazione anche una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio allora se l'istituto della stabile organizzazione sarebbe quello che un fisco di un certo tipo un fisco moderno potrebbe prendere in considerazione per cercare di allocare all'Italia in qualche modo i frutti di questi recuperi che sarebbero appunto tassati con questa liquida estremamente piccola questa disposizione in qualche modo potrebbe essere presa in considerazione però cerco di essere molto breve perché il discorso è complesso si ricollega allo strumento multilaterale previsto per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali eccetera eccetera internazionali per questo dico che dobbiamo tenere presente che questa disposizione a ben vedere non è una disposizione che introduca un concetto di stabile organizzazione quale in termini generali potrebbe essere per il soggetto investitore estero ma è un qualche cosa che come ci dice l'assonime come ci dicono gli atti parlamentari che sono alla base di questa disposizione in realtà tutto questo è un qualche cosa che vuole ricondurre al concetto di stabile organizzazione fisica la stabile organizzazione e dunque riportare a un prevenire un discorso di elusione fiscale che sarebbe altrimenti facilmente utilizzabile per eludere un po' quello che sarebbe la sostanza economica la sostanza fiscale sostanziale io poi lascerò un appunto all'avvocato Voltaccio appena possibile appena ci riesco per cui chi è interessato poi a leggere queste considerazioni estremamente generali magari avrà interesse a leggerlo e volevo invece fare un altro passo per dire che c'è un altro istituto o un altro indirizzo interpretativo che il fisco ormai tutto il fisco è un fisco come dire condizionato pesantemente dagli aspetti internazionali anche qualunque disposizione diciamo interna per capirci è comunque in qualche modo influenzata da direttive comunitarie o influenzata da lavori dell'Ocse o influenzata da fenomeni internazionali che diciamo così spesso non sono dominabili o dominati dal legislatore italiano nella loro sostanza un altro istituto importante lo dico perché nell'evoluzione di queste cose prima o poi può accadere che ci si ricordi di questi come dire antefatti è la teoria dell'accesso al mercato che cos'è questa teoria all'accesso al mercato è un qualche cosa che si va formando e già si è formato nel mondo degli stati americani dei singoli stati americani che sono molto più importanti di quanto noi si pensi in generale perché noi ragioniamo da europei e abbiamo la concezione dello stato e delle leggi che fa lo stato nella sua interezza ma in nord america così non è perché è molto importante ciò che fanno i singoli stati e le leggi che fanno i singoli stati poi in qualche modo questi fenomeni vengono a essere come dire a sorgere a importanza di carattere generale per farla molto breve perché l'argomento che qui è estremamente complesso mi vorrei vorrei ricordare che c'è stata una controversia importante che è nata che è nata inizialmente nell'oregon nel 1964 e poi ci fu una sentenza di un certo tipo ma poi soprattutto con riguardo agli istituti finanziari alle vendite online da parte di soggetti che stavano in uno stato verso acquirenti che stavano in un altro stato ci sono stati questi fenomeni che hanno portato poi a una importantissima sentenza che è la sentenza Wayfair cosiddetta del 2018 quindi abbastanza recente dove appunto la Corte Suprema americana che entra in gioco alla fine di queste controversie questa sentenza che cosa ha detto che non è più necessaria la presenza fisica di una organizzazione d'impresa in uno stato per avere la tassazione dei profitti in termini generali in quell'altro stato ma è sufficiente appunto l'attività il nesso economico e il nesso economico c'è quando il contribuente si avvale del privilegio sostanziale dice proprio letteralmente la Corte Federal degli Stati Uniti di svolgere attività in quella diversa giurisdizione in quella diverso stato quindi questo nesso standard è stato soddisfatto in quanto appunto dice la sentenza i venditori non residenti avevano sufficienti contatti economici e virtuali con il loro cliente che stava nell'altro stato cerco di concludere velocemente perché abbiamo appunto visto come questa simmetria sia difficilmente difficilmente superabile come dire con gli strumenti ordinari legislativi che possa avere il fisco italiano in mano perché la legge 130 del 99 è bene o male che è una legge secondo me che ha ben funzionato ha ben regolato quel mercato porta con sé dell'articolo 6 in particolare delle norme di carattere fiscale che sono difficilmente modificabili come è giusto che sia e vediamo se in qualche modo si possa avere una come dire considerazione del fenomeno secondo ottiche diverse le ottiche appunto della presenza del nesso economico tra chi investe in queste operazioni per considerare che questi profitti vengono in fin dei conti da una realtà economica italiana è evidente che parliamo degli urecondendo io degli urecondido non vedo strumenti allo Stato che il fisco italiano possa attivare salvo errore mio possa attivare per fare qualcosa in questo senso teniamo conto che il concetto di stabile organizzazione al contrario di quanto si pensi normalmente si pensa normalmente è un concetto che è stato introdotto nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni negli anni 20 a opera del rappresentante americano Mitchell Carroll con la funzione principua non già di ripartire la potestà impositiva tra lo Stato della fonte e quello della residenza come spesso moltissimo spesso si crede ma soltanto di limitare la potestà fiscale dello Stato della fonte questo come dire in un'ottica di paese più forte economicamente che può fare investimenti nel paese più debole spiega tante situazioni che anche oggi ci sono quindi concludo è evidente che in qualche misura occorre considerare che c'è questa situazione di forte asimmetria però allo Stato non mi sembra che il fisco italiano abbia strumenti di jurecondito che possa attivare per fare per ipotizzare la presenza di stabili organizzazioni estere in Italia a fronte di queste operazioni perché la legge 130 al 99 tutto sommato nella sua logica nella sua sostanza è un ostacolo a qualunque impostazione di questo tipo quindi vi ringrazio per l'attenzione e rimango a vostra disposizione nel caso che ci siano domande grazie 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 veramente Avvocato Tieghi se poi vuole mandarci uno scritto lo pubblicheremo come sempre nella pagina del sito adesso do la parola per un intervento conclusivo poi eventualmente possiamo fare anche un giro ulteriore di opinioni al collega Dino Crivellari il quale avendo vissuto nel mondo delle non performing air pressure da tempo anche dalla parte del del creditore meglio di ogni altro può concludere lo spaccato che abbiamo fatto oggi partendo dai disegni legge però anche arrivando anche a capire quali sono i punti nei quali bisogna forse riorganizzare il sistema o intervenire per ottimizzarlo prego grazie grazie Paolo Voltaggio grazie a tutti grazie dell'invito e devo dire che dopo tutto quello che ho sentito io cambio completamente l'intervento perché ho sentito delle cose estremamente interessanti e quindi però diciamo così il mio intervento si voleva intitolare pacta sun servanda e questo nell'estrema coerenza che mi deve caratterizzare avendo fatto per 45 anni per mestiere il creditore quindi per tutta la vita praticamente mi sono imbattuto nel problema di come farsi ridare i soldi che avevamo dato forse non bene evidentemente o non alle persone giuste però nonostante questo titolo poi forse il finale del mio intervento che non vorrà essere lunghissimo ma anche perché sono l'ultimo quindi a questo punto sarò apprezzato più per la sintesi che per i contenuti può darsi come spesso accade sarà un po' diverso forse dall'inizio noi devo anticipare subito una cosa io sono d'accordo quasi su tutto sulle cose che sono state dette parlerò del quasi a questo punto perché se no è inutile ripetere però c'è un tema che mi affascina un po' questi disegni di legge sono scritti male in particolare l'843 quell'altro gemello sono scritti proprio con per far venire il dubbio che è venuto al dottor d'Arrigo che li scrivi a fare così perché giustamente chi è che diceva prima forse l'ingegnere Matteo diceva ma ci sono un sacco di avvocati in Parlamento non li sanno scrivere come mai no sono scritti troppo male per essere scritti da qualcuno che voleva scriverli male secondo me sono scritti per non essere realizzati ma per sollevare un problema e questo problema però è bene che accettiamo che venga sollevato perché se non l'accettassimo ci metteremmo a dietro una condizione di protezione secondo me di breve durata perché il mondo si evolve e cambieremo un'altra volta dopo che queste cose che stiamo vedendo adesso in fin dei conti sono nate con la legge del 99 io mi sono occupato di cartoralizzazioni dal 99 al 2015 quindi ho fatto non dico tutte ma insomma gran parte me ne sono occupato però era un mondo completamente diverso quando fu fatta quella legge io mi chiesi andandola a leggere a che serve mi sembrava assurdo che e voi sapete bene che quella legge non è stata fatta adesso voglio fare un po' di Amarcord ma insomma quanto basta quella legge non fu fatta per per fare quello per le cui le cartolarizzazioni erano nate e cioè consentire alle banche di avere una maggiore flessibilità nell'operatività di trasformatori di scadenze era quella legge fatta apposta proprio per occuparsi di NPL ma le cartolarizzazioni non sono nate per occuparsi di NPL sono diventate lo strumento principe con cui ci si occupa di NPL ma all'origine erano nate per distribuire il rischio di crediti performing non di crediti non perform ma quella legge fu fatta apposta perché avevamo qualche problema particolare in qualche banca romana che era stata diciamo così scossa dalle privatizzazioni degli anni 90 bisognava trovare una soluzione e fu fatta quella legge e io mi feci la domanda a che serve anche perché a quei tempi la sottoscrizione dei titoli junior veniva fatta dal cedente e quindi dissi ma perché dobbiamo vendere questa roba ad un ad un SPV le famose trevi uno due tre quando poi se ci saranno delle perdite mi ritorneranno in casa perché io sono il sottoscrittore dei titoli junior e dopo qualche notte in sonno in cui non riuscivo a darmi una spiegazione capì e capì una cosa importante che non ci sarebbe più stato lo stesso consiglio di amministrazione quando non avremmo incassato i titoli junior quindi il problema era buttare la palla avanti e fare in modo che alcune operazioni nel frattempo si potessero fare cioè il guai sto parlando del 99 purtroppo nel 2007 quella banca l'abbiamo incorporata a noi quindi io me la sono trovata io le carte organizzazioni 3V1,2,3 e quindi a quel punto il problema ce l'avevo io dopo ma comunque ma il nostro punto di riferimento deve essere uno noi abbiamo la politica che si sta occupando di questo cosa ce ne sono dal 2017 ad oggi uno l'ho scritto anch'io più di uno forse ci sono credo una decina di disegni di legge su questo argomento lo stesso il fatto stesso che 17 anni dell'estituto 18esima legislatura e 19esima legislatura si continua a parlare di questo significa che c'è un problema di attualità poi l'attualità a volte è anche un po' pelosa perché alla fine ci sono elezioni europee le motivazioni possono essere mille però non è che si parla di cose inesistenti anche con quest'ottica molto da reclam politica si parla sempre di cose che in qualche modo sono vere tant'è vero che incominciano ad esserci gli effetti il debitore che dice no aspettate tanto ci sta pensando il governo quindi intanto andiamo a vedere dove andiamo a finire poi dopo se ne parla quindi le cose ma perché sono perché questa attualità perché noi abbiamo un problema che è un numero sono 350 miliardi noi nel 2015 quando finalmente la BCE ci fece scoperchiare io sono uomo di banca e quindi parlo da uomo di banca diciamo senza nessun diciamo senza con il massimo orgoglio di aver fatto questo lavoro la quando nel 2015 finalmente 14 13 14 15 poi alla fine la BCE ci fece aprire i coperchi che specialmente la politica devo dire molto più che la vigilanza non ci voleva far aprire per dire che avevamo qualche problema di sofferenza in più ed eravamo passati dagli 80 miliardi del 2008 ai 365 miliardi del 2015 quel numero tragicamente c'è un'altra volta è sempre qui tra di noi perché dopo aver venduto dal 2016 in poi comprese le GAX più di 300 miliardi di crediti non performing fino ad ora in questo momento il sistema Italia continua ad avere 350 miliardi di stock di non performing di cui questa volta 50 ce ne hanno le banche e 300 e rotti ce ne hanno i fondi quindi il problema è che noi non riusciamo a digerirlo questa montagna non siamo riusciti a migliorare la situazione siamo riusciti a migliorare enormemente la situazione delle banche che dal 17% di rezio sugli MPE adesso ci hanno il 3,1% qualcuno dice che è già passato al 2,8% salvo nuovi dati che dovrebbero essere arrivare però noi abbiamo questa montagna questa montagna sta lì e a questo punto la politica dice cosa possiamo fare considerando che noi abbiamo due problemi un po' prima di tutto osserviamo l'endemicità di questo fenomeno noi abbiamo gli MPL che sono un fenomeno endemico eppure non è che durante questi anni non si sia lavorato sugli MPL ma alla fine ne abbiamo macinati circa una cinquantina di miliardi ma nel frattempo ne sono arrivati nuovi e quindi alla fine siamo sempre a 350 miliardi ora su meno di 2.000 miliardi di asset e creditizi delle banche 350 miliardi sono un numero non sostenibile e se le cose dovessero andare male come dice qualche diciamo qualche barbagianni a livello europeo ma di solito loro sono abbastanza informati e dovessero peggiorare ulteriormente per arrivare fino a 400 miliardi in Italia per arrivare a 1.400 miliardi in Europa noi avremmo un problema di tenuta del sistema bancario conseguentemente siccome non abbiamo trovato nessun'altra soluzione perché siamo arrivati tardi diciamo la verità a costituire la bad bank che avremmo potuto fare all'inizio degli anni 2010 ma quando siamo arrivati noi a chiedere nel 2015 ci hanno detto scusate vi siete dimenticati che c'è il divieto di aiuto di Stato e ci hanno bloccato poi abbiamo visto che gli aiuti di Stato sono stati interpretati a volte in maniera molto personalizzata da organi della comunità europea ma ci hanno bloccato e l'unica cosa che siamo riusciti a inventarci sono state le GAX le GAX che sono state il sistema per far ripartire le cartorializzazioni considerate che dalla fine del 2006 al 2015 le cartorializzazioni erano quasi completamente finite in Italia se ne facevano pochissime erano operazioni estremamente tayloristiche che costruivamo perché quella quella situazione meritava quel tipo di strumento dal 2015 in poi dal 2016 in poi appena partite le GAX sono diventate l'operazione principe che ci fa considerare uno dei più interessanti mercati degli NPR in Europa bene io direi che è meglio non vantarsene cioè se dobbiamo essere considerati i migliori nei guai forse insomma diciamolo a piano insomma perché farebbe meglio essere considerati i migliori in qualcosa che sono meno guai di questi però tant'è che ci sono e allora dobbiamo affrontare il ragionamento e lo affronta la politica guardando una cosa se volete semplice e cioè dice ma se il debitore ha cento di debiti la banca ritiene che non recupererà più di 50 sono esempi che sono già stati fatti e la banca poi alla fine lo vende a 20 si fa la domanda il politico che ha bisogno naturalmente di consenso elettorale perché visto che la banca ha rinunciato a 80 non accetta che il debitore gliene paghi 25 sarebbe ormai ormai ci ha rinunciato è il creditore che ha rinunciato tant'è che vende a 20 quello che vale 100 i numeri non sono esattamente così ma insomma prendeteli per buono tanto più e questo è un altro ragionamento che fa la politica è tanto più che chi compra 20 ne recupererà comunque 50 perché quello che ci scordiamo spesso ma non tutti devo dire è che le banche statisticamente dati Banca d'Italia ormai consolidati quindi non è vero che non ci sono più i affari recuperi quindi sono un po' peggiorati i recuperi delle banche penso comunque sono buoni e sono superiori al 50% allora la gente il ragionamento è ma se il recupero delle banche comunque è il 50% vuol dire che il cessionario che comprerà quei crediti siccome poi oltretutto il cessionario è più o meno un'intelligenza finanziaria ma non è un operatore gli operatori sono loro e loro sono unirec voglio dire o comunque i gestori di crediti lavorano sia per le banche che per i cessionari quindi sono gli stessi gli stessi fanno sempre gli stessi risultati cioè porterà a casa 50% quindi il problema è che chi ha comprato il 20% porterà a casa 50% e dice eh sì ma però questo è normale perché ha preso dei rischi lo diceva prima il dottor D'Arrigo ha preso dei rischi ha dei costi ha delle incertezze benissimo e questo va benissimo finché il mercato funziona così non c'è niente da dire ma a questo punto il problema è che questo fenomeno è un po' più grande di quanto di quanto possiamo immaginarcelo se ne facciamo una vivisezione entrando nel particolare del comportamento del debitore perché se parliamo del comportamento del debitore vale sempre il criterio il principio che pacta sul servanda quindi mai e poi mai mettere il debitore nella condizione di pensare che se la cava con poco perché se gli facciamo pensare che se la cava con poco lui smette di pagare tutti e su questo l'Italia è sicuramente uno dei paesi più esperti perché tutti i condoni fiscali e urbanistici che facciamo noi ci hanno insegnato che chi paga le tasse forse è un po' sciocchino uno che ha un po' paura chi non le paga è sicuramente più intelligente di quell'altro se applicassimo anche questo meccanismo per le banche noi il sistema bancario lo possiamo chiudere dal giorno uno e smettere di pensare di averlo quindi questo tema è formidabile però c'è qualcun altro che ha detto sì un attimo però non è che qui stiamo parlando del singolo debitore non è che stiamo parlando di una incidenza del 2% 2,5% 3% sul totale perché il 17% di incidenza delle sofferenze sul totale dei crediti bancari che oggi non c'è più perché il 3,1 c'è ancora a livello sistemico perché la quantità di attività creditizia delle banche forse è un po' diminuita negli ultimi tempi ma siccome la somma degli NPL è sempre la stessa da un punto di vista sistemico naturalmente sovrapponendo dei soggetti che sono diversi quindi l'operazione è simulata è virtuale non può essere vera perché i soldi ce li mettono i fondi però noi abbiamo sempre il problema di 350 miliardi e questi 350 miliardi riguardano circa 2 milioni di debitori 2 milioni di debitori sono quelli anagraficizzati nella centrale dei rischi però questi 2 milioni di debitori si tirano dietro le mamme i figli i cugini le nonne gli obbligati i coobbligati i fornitori i dipendenti il condominio eccetera eccetera quindi diciamo che l'argomento riguarda l'un per l'altro qualcuno ha fatto dei calcoli non so quanto siano esatti ma comunque diciamo che possono riguardare una decina di milioni di persone una decina di milioni di persone sono un sesto della nostra società a questo punto il politico si fa la domanda ma allora io di questa cosa veramente non le devo occupare non posso fare a meno di occuparmene perché le cose sono stabili non migliorano anzi forse peggiorano perché con i tassi che aumentano l'inflazione che aumenta la cosa più probabile che possa succedere è che invece che 350 miliardi ce ne avevamo 400 prendiamo il toro per le corna e qui tira fuori Hammurabi ormai l'abbiamo imparato tutti il re di Babilonia 2800 anni fa disse fece una legge che diceva che se per inondazione o per siccità il contadino non poteva pagare i debiti perché non aveva raccolto e quindi il raccolto era andato perso era meglio cancellargli i debiti piuttosto che imprigionarlo per debiti perché se fosse stato imprigionato per i debiti non poteva andare a zappare per il nuovo raccolto e quindi era meglio seguire una strada più pratica naturalmente pacta sul servanda è bello e finito perché qui stiamo dando una valorizzazione ad un aspetto di carattere socio-politico e questo comporta che il ragionamento quindi va fatto però però c'è un altro ma c'è un altro ma che deve un po' farci uscire dalla logica strettamente diciamo un po' civilistica del principio abbiamo imparato e lo stiamo vedendo anche nella normativa europea ma anche nella normativa nazionale una cosa che una volta noi non sapevamo o meglio no non sapevamo e comunque consideravamo qualcosa di non accettabile e lo dico da uomo di banca quello che sto per dire è molto grave tanto più detto da uomo di banca e cioè il fatto che se un debitore è in difficoltà con la banca la colpa non è solo la sua perché a parte adesso le mie esperienze personali quando sono andato via dalla banca che si occupava di questo c'eravamo più di 80 miliardi di NPR in gestione quindi qualche centinaia di migliaio di nomi ma il problema è un fenomeno un fenomeno sociale socio-economico che si è verificato le banche da che sono enti privati e sono orientati al profitto come giusto che sia sono tenute a correre dei rischi allora mentre prima correvano dei rischi che dovevano però essere contemperati con la stabilità della banca parlo delle banche economia mista banche di stato che avevamo prima del 93 adesso no i rischi che corrono li corrono da capitalisti cioè li corrono da imprenditori che hanno come obiettivo fondamentale il valore dell'azienda io per gli ultimi 40 anni 20 anni della mia vita mi sono occupato di dare valore all'azienda che mi era stata affidata e il mio compito principale era quella di farla ricca di farla diventare profittevole e di fare in modo che guadagnasse questo però significa che se per far questo io debbo prestare i soldi a qualcuno mi sto prendendo il rischio di prendere una fregatura diciamola così in maniera un po' superficiale se questo rischio lo accetto perché fa parte del mio lavoro e quindi ho come naturale scarto di produzione una sofferenza un UTP uno scaduto devo essere bravo a limitare questo rischio naturalmente e la difficoltà che ho è che più rischio e più guadagno fino a un certo punto meno rischio e meno guadagno fino a un certo punto quando però abbiamo incominciato a pensare che le banche non lavoravano per tenersi in mano i rischi tenersi nella loro pancia i rischi erogare i crediti e tenersi i rischi cioè originate in too old come si diceva ma abbiamo imparato che le banche che per le banche sarebbe stato molto più interessante originare il rischio e cederlo sul mercato originate to distribute anzi prima era end distribute poi abbiamo detto no no to distribute non è che le originiamo e poi le diamo no le originiamo per dargliele a chi ha un mercato estremamente liquido e molto più interessato al rischio e quindi a guadagnare di quanto fossero le banche guardavo un dato che non ricordavo nel 2007 negli Stati Uniti un anno prima ma c'era già eravamo già in crisi non la stavamo vedendo del fallimento di Lehman Brothers quindi eravamo in piena crisi su Prime l'80% dei crediti conforming non non performing ma conforming e subprime delle banche americane erano cartolarizzati vista come è andata dopo forse non è che sia una cosa che porta proprio fortuna quindi stiamo attenti a evitare di correre lo stesso rischio cioè quello di pensare che siccome abbiamo cartolarizzato trasferiamo tutto fuori le banche sono belle tranquille oggi in questo momento hanno un patrimonio di vigilanza ottimo dopodiché siccome però rischiano di non fare più denaro sto dicendo una cosa che è già successa siccome rischiano di guadagnare poco perché c'è poco da investire nell'economia reale che si ferma che fanno come hanno fatto negli Stati Uniti prima del 2007 hanno comprato e hanno finanziato i fondi che avevano comprato a loro volta i subprime e così quando sono saltati i fondi con i subprime sono saltate anche le banche cioè il circuito si chiude ecco noi dobbiamo quando ciao Guido grazie scusate noi dobbiamo pensare che se ragioniamo in termini di fenomeno non possiamo fermarci al fatto che il debitore è costretto a pagare perché questo è un principio fondamentale dal quale non si esce altra cosa e questo è il quasi sul quale non sono d'accordo con il dottor D'Arrigo il dottor D'Arrigo dice se il debitore viene facilitato nel non pagare gli facciamo anzi un bello sconto questo problema si trasforma in un aumento del tasso per i debitori che pagano sul piano tecnico ho dei dubbi ma per un motivo perché quando le banche italiane hanno ceduto 300 miliardi di non performing loan perdendone 100 me l'ho fatto un conto poco fa insomma perdendone 240 perché hanno ceduto diciamo al 25% quei 300 miliardi quindi hanno avuto delle perdite per 240 miliardi l'effetto sul loro conto economico si è realizzato in quel momento hanno perso 240 miliardi che hanno dovuto necessariamente coprire a parte con delle ricapitalizzazioni forse nate ma questo faremo un convegno apposta sulle ricapitalizzazioni delle banche per vedere quanto è divertente un circuito scusate faccio un accenno banalissimo ma il mercato dei fondi che compra gli NPL a 20 e guadagna e porta a casa 50 sta guadagnando 30 che sono esattamente la perdita delle banche perché hanno perso 30 avendo venduto a 20 quello che portavano in bilancio 50 le banche devono ricapitalizzarsi per 30 se andate a vedere cosa è successo in questi ultimi 10 anni le banche si sono ricapitalizzate grazie ai fondi una volta avevamo le fondazioni avevamo gli enti avevamo i privati oggi le banche sono necessariamente in mano ai fondi ma non è una cosa illegittima o assurda è normale perché la liquidità e noi risparmiatori i soldi li diamo ai fondi non più non li diamo più alle banche quindi è giusto che siano i fondi a operare i fondi sono demonizzati perché si pensa che tutti i fondi siano speculativi sono tutti edge fund no gli speculatori siamo noi perché siamo noi che versiamo i soldi ai fondi per fare queste operazioni torniamo un attimo al nostro problema quando abbiamo fatto queste operazioni e abbiamo perso 240 miliardi abbiamo dovuto ritoccare necessariamente la nostra capacità di rendimento come banche quindi l'effetto è già stato scontato nel momento in cui abbiamo venduto a 20 quello che avremmo potuto portare a casa per 50 lo abbiamo accettato non c'è una una seconda una seconda chance su questo lo abbiamo fatto in via definitiva quindi questo non avrà un effetto particolarmente importante sulle banche è vero che ma questo è un mio cattivo pensiero io avrei sempre preferito che le banche avessero continuassero ad avere capacità di gestione del recupero se non altro perché se non conosci bene qual è la fase patologica del rapporto creditizio probabilmente non sarai più neanche così bravo nell'erogazione e nel controllo concomitante una volta adesso c'è qualche avvocato qui dentro che si è occupato di lavoro con le banche forse si ricorderà che le banche avevano degli avvocati in banca c'erano gli uffici legali e quando si parlava con io ero all'interno ma insomma quando io avevo a che fare con un avvocato esterno ne riconoscevo la autorevolezza perché lui era un professionista era un impiegato ma lui parlava con qualcuno che cercava di parlare la stessa lingua mi chiedo quanti oggi riescano ad avere rapporti con persone professionalmente assolutamente indiscutibilmente brave ma che hanno un altro obiettivo non è quello di vincere le cause ma è quello di liquidare i patrimoni perché l'unica possibilità che ha il creditore cessionario di portare a casa il suo risultato è quello di liquidare il patrimonio molto meno interessato per forza deve essere a quella che invece è una cosa che la banca dovrebbe fare più facilmente più naturalmente cioè quella di vendere le equitanze cosa intendo con questo scusate vado a chiudere però quando si ha a che fare con un debitore e consentitemi se mi posso prendere l'ardire di dire che qualche esperienza ce l'ho il primo problema che bisogna cercare di capire è quanto mi può pagare una quietanza per essere sdebitato e questo lavoro è un lavoro difficilissimo perché la simmetria informativa che si ha con il debitore a volte è anche maggiore della simmetria informativa che si aveva nel momento dell'erogazione quando abbiamo la simmetria informativa nel momento dell'erogazione che è il compito principale della banca che la quale nella sua funzione di agency deve essere proprio molto più brava dei suoi depositanti a ridurre la simmetria informativa nei confronti dei prenditori perché se no non si capisce che ci sta a fare la banca serve a questo serve perché c'è un sacco di gente che vorrebbe investire i soldi ma non riesce ad avere capacità di individuazione del rischio di colui che vorrebbe prenderli quei soldi li porta in banca e la banca fa questo ruolo cioè cerca di essere brava nell'allocare correttamente il risparmio di terzi la banca non usa soldi suoi quindi deve fare questo lavoro se si è molto bravi nel capire come e quando dare i soldi a qualcuno quello è il lavoro buono del banchiere la stessa logica ci vuole per capire come recuperare i soldi dal debitore e cioè bisogna avere la capacità di sapere qual è il suo punto di rottura per il punto in cui lui è disposto a pagare la quietanza per far questo bisogna avere un sacco di informazioni bisogna essere molto bravi bisogna anche saperci fare poi non è detto che ci si riesca sempre a volte non ci si riesce e per fortuna a questo punto un po' di lavoro per gli avvocati è rimasto perché grazie a Dio quelli che non non sono d'accordo a risolvere il problema in questo modo fanno lavorare noi perché se fossero tutti bravi nel vendere quietanza e quell'altro a comprarle noi saremo a spasso tutti qua questo perché è importante perché dobbiamo accettare un elemento è inutile pensare che questo il fenomeno in questi casi di cui stiamo parlando sia un fenomeno da ridurre all'interno del fatto che pacta su un servanda noi abbiamo un fenomeno sociale che è aggravato da quello che ha appena detto l'avvocato Tieghi perché oltre a quel fenomeno sociale sul quale dobbiamo porci gli strumenti per poter porci il problema di quali strumenti poter adottare e piano piano li stiamo adottando perché la composizione negoziata della crisi non è nient'altro che il riconoscimento del fatto che la banca si deve far carico della responsabilità di aver erogato o di aver gestito con trascuratezza il controllo concomitante nel corso del rapporto con il cliente ma il motivo per cui dobbiamo affrontare l'argomento è perché non possiamo lasciarlo ad un'industria che per definizione non può essere più efficiente di quanto lo sia ha ragione dottor D'Arrigo se ci occupassimo di fare delle norme migliori anche perché uno sforzo nel copiarle da qualcun altro potremmo farle fatto sta che ne parliamo da che io sono andato all'università e sono passati molti decenni ho sentito sempre parlare che la giustizia era inefficiente in Italia e siamo io sono la mia generazione sta per finire ne sono arrivate altre tre ma ne sono passate altre tre sono sei generazioni che diciamo questa cosa e nessuno riesce a cambiare forse un motivo di fondo c'è non credo che questa possa essere la giustificazione per dire tanto comunque se non si risolve il problema dell'efficienza giudiziaria non possiamo risolvere nessun problema no assolutamente perché abbiamo un problema che riguarda 10 milioni di persone e 350 miliardi di stock di NPL quindi lo dobbiamo affrontare arriviamo alla conclusione le norme che sono state scritte a parte che sono scritte male hanno un grande difetto pretendono di incidere su cose che sono già state definite su diritti consolidati nulla di più pericoloso in un mercato di una cosa di questo genere perché non ti crede più nessuno se vai a toccare le regole dopo qualcuno ti dirà lascia perdere io da te non ci vengo vado in un posto dove le regole sono più stabili ed è per questo che le norme sono inefficaci nella misura in cui impongono la transazione opeleggis dico io cioè che a un certo punto l'opetazione si chiude in quel modo no a mio avviso bisogna fare una cosa sulla quale l'assist me l'ha dato l'avvocato Tieghi bisogna ragionare in un altro modo bisogna mettere in campo un altro attore il che capisco che sia fastidioso nell'attuale situazione di equilibrio per cui oggi gli attori sono pochi investitori perché il mercato non è un mercato efficiente questo è un mercato oligopolistico è vero che ce ne sono molto di più di operatori di quanti ce ne fossero dieci anni fa ma sono ancora pochi rispetto alla massa enorme di crediti che le banche debbano vendere tant'è vero che neanche a farlo apposta i primi quattro operatori c'erano il 50% del mercato quindi è un mercato non efficiente perché è oligopolistico per cui va reso più efficiente e le direttive europee il regolamento europeo di cui parlava il dottor Chimani di prima vorrebbero arrivare anche a questo la sensazione che ho ma non vorrei essere portare sfortuna la sensazione che ho è che costringeranno gli operatori di questo settore ad essere molto più complicati all'interno ad essere molto più non solo sotto sorveglianza che può andare bene se la sorveglianza non ha un costo ma se i costi cresceranno così come sono cresciuti i costi di compliance per le banche l'unica cosa che avverrà effettivamente è che quegli operatori che oggi sono alcune migliaia di cui alcuni bravissimi alcuni meno bravi dovranno necessariamente sommarsi l'un con l'altro dovranno io l'ultima volta che sono stato invitato a un convegno di Unirec dissi qualche anno fa ormai è passato dissi al convegno la cosa che mi colpisce è che qui siete ancora troppi e sono stato un facile profeta perché non c'era altra strada che quella di pensare che in un mercato che si va complicando sotto tanti profili il numero degli operatori alla fine diminuisce ma diminuisce perché perché si complicano le regole perché le regole diventano sempre più complesse sempre più costose oggi una BCC se non fosse dentro la sua capogruppo non ce la farebbe stare in piedi con le regole europee che soltanto in termini di compliance costano decine di risorse immaginate se le società di recupero crediti che dovranno fare ogni tre mesi il report al loro vigilante che non so quali sia quali sarà quindi questo è un problema che si pone ma è un problema che si pone nei confronti del quale bisogna agire ripeto con degli strumenti a mio avviso più elastici e cioè quelli del fisco cioè far diventare giocatore di questa partita il fisco che in questo momento è la vittima io non faccio il fiscalista come l'avvocato Tieghi ma il fisco è la vittima di questo fenomeno perché come abbiamo appena visto se ne vanno tra i 30 e i 50 miliardi soltanto perché così come è costruito questo fenomeno quei soldi vanno all'estero quei soldi vanno all'estero ricordateci ricordiamoci però ma la socializzazione delle perdite delle banche resta in Italia cioè la paghiamo tutti noi con il minor gettito fiscale che non è compensato dal gettito fiscale che dovrebbe essere all'incirca somma zero visto che loro i fondi guadagnano quello che le banche perdono quindi se tutto fosse perfetto non ci sarebbe nulla sarebbe soltanto un trasferimento tra un soggetto che non vuol più fare una cosa e un soggetto che vuole ancora farla ed è giusto che quello venga pagato ma la socializzazione delle perdite non ci sarebbe e quindi noi tutti staremmo un pochino più tranquilli quei 50 miliardi non ce li avremmo rimessi in termini o di tasse o di debito ecco perché il giocatore erario deve entrare in partita e non deve entrare in partita a piedi uniti imponendo chissà quali obblighi specifici ma deve dire caro cedente se tu ti trovi nella condizione per cui il tuo debitore ti offre una certa cifra e tu non la accetti ma immediatamente dopo prendi quel credito e lo vendi in un'operazione e qui ha ragione il dottor Darrigo che si tratta di operazioni complesse ma e lo vendi ad un prezzo ad un valore più basso tant'è che quella differenza ce la mette la socializzazione delle perdite come fenomeno questo non mi sta più bene perché o accetti quello che ti propone il debitore o non cedi il credito il senso di questo è se il creditore ci offre 50 e tu non lo accetti e poi quel credito lo vendi a 30 quel 20 lo paghiamo tutti noi allora io capisco che il ragionamento è attenzione sì però quanta pacottiglia quanta robaccia viene comprata dai fondi senza che porterà nessun risultato dopo certo tanta di accorto ma io sto parlando di quello che avviene prima della cessione del credito ai fondi è lì che bisogna intervenire bisogna intervenire nel momento in cui la banca deve decidere vendo o non vendo se la variabile diventa un calcolo di convenienza basato su una logica fiscale a questo che ripeto il fisco è un giocatore che sta in panchina e piglia solo le pallonate per il momento forse a questo punto le cose diventano più accettabili perché non c'è una norma che dice come dicono alcune di queste paghi il 20% e più non si è capito di cosa secondo me l'ha capito soltanto il dottor D'Arrigo perché io l'ho letto 20 volte quell'articolo e non sono riuscito a capire come si calcola il prezzo è impossibile secondo me tant'è che è una relazione proporzionale quindi non ha un valore assoluto non lo so comunque non l'ho capito ma io in matematica non sono mai stato molto bravo ma non è così non è che te lo impone e ti costringe quindi a dire adesso la mia fortuna come investitore o come servicer è legata al fatto che quella norma abbia scatenato la fortuna o la voglia di fare qualcosa in un numero maggiore o minore di persone che hanno determinate caratteristiche cioè veramente siamo al gioco della lotteria cioè i risultati dei cessionari e dei servicer saranno legati ad una lotteria perché dipenderà da quanta gente in quel momento è nella condizione di no questo non va bene questo non va bene perché il debitore comunque deve pagare il debito quello che può cambiare le cose a mio avviso e qui veramente chiudo è l'intervento di soluzioni di strumenti fiscali sui quali non possiamo neanche andarci a tirar fuori troppo la questione che le norme retroattive perché sappiamo che l'inderogabilità della retroattività l'articolo 11 delle preleggi essendo una legge ordinaria quindi è possibile salvo per il penale ma qui non stiamo parlando di retroattività qui stiamo facendo una cosa semplicissima e cioè stiamo prendendo una decisione di politica fiscale e le decisioni di politica fiscale sono sempre prese oggi per domani sono sempre qualcosa che non è che possono dirmi pagami le tasse di 25 anni fa da ora in poi mi pagherai 10% 15% o 5% di tasse quindi la posso prendere non credo che troveremmo chissà quali ostacoli dal punto di vista della struttura della norma però chiaramente questo deve far fare i calcoli perché cosa dobbiamo avere presente dobbiamo avere presente da un lato la perdita fiscale che abbiamo con le operazioni dall'altro il fatto che forse se riusciamo a rimettere in carreggiata un po' di quei debitori di cui ritorno un attimo su quello dicevo prima di cui le banche in parte sono responsabili perché sono in default io li ho viste arrivare all'ospedale militare che era la mia banca che curava di queste cose io vedevo arrivare i morti e i feriti e tanti di quelli non sarebbero né morti né feriti se noi banche avessimo avuto un po' più d'attenzione nel capire di cosa avessero effettivamente bisogno e non la foga di dover dare per forza credito per un periodo breve della mia vita ma verso la fine io sono stato nominato nel mio gruppo commissario creditizio una funzione unica non è mai esistito un commissario creditizio il mio compito secondo l'amministratore delegato di capogruppo era quello di rimettere le mani sul mondo dei crediti da A alla Z la prima cosa che scoprì e io non me ne ero reso conto perché ormai erano anni che ero tra il pronto soccorso e l'obitorio che il problema vero era che nessuno controllava più i clienti cioè tutti andavano a vendere contratti di credito e nessuno andava a guardare il cliente giorno per giorno cosa faceva quando io ero ai crediti nella metà precedente della mia vita la prima cosa era andare a vedere cosa faceva il cliente non dargli soldi mentre ormai noi eravamo al punto in cui diamogli soldi originate to distribute perché tanto poi ricartoralizzeremo e chi se ne frega poi di andare a vedere il cliente cosa fa mentre quello era il vero problema abbiamo fatto qualche innovazione in questo ruolo di commissario creditizio dopodiché abbiamo venduto 15 miliardi di sofferenze che è stata una tragedia però non potevamo far diversamente ma ce l'avevamo portati dietro noi allora se abbiamo questa consapevolezza cerchiamo di fare delle norme che abbiano il minor danno possibile collaterale e il minor danno possibile collaterale a mio avviso è quello di introdurre gli elementi fiscali di vantaggio e di svantaggio in modo da costringere gli operatori a farsi conti anche con gli effetti fiscali il che potrebbe creare qualche situazione di miglioramento o qualche situazione di peggioramento indubbiamente ma d'altra parte non possiamo continuare a permetterci di avere uno stock di 350 miliardi che rischiano di diventare 400 miliardi su un attivo bancario di poco meno di 2.000 miliardi 1.800 miliardi perché non sappiamo come reggerlo da qui a 10 anni se non vogliamo abdicare completamente questo sforzo lo dobbiamo fare e ci vuole un po' di fantasia oltre che un po' di competenza grazie il dottor Tari voleva svolgere una allora avendo svolto la relazione introduttiva mi arrogo da solo il compito di fare anche le conclusioni perché perché soprattutto l'ultima relazione che abbiamo sentito offre uno stimolo estremamente interessante cioè passa da una visione di critica delle prospettive di riforma o di regolamentazione normativa attualmente in circolazione alla formulazione di una effettiva proposta o quantomeno dell'illustrazione di una possibile prospettiva di realizzazione di un meccanismo che possa affrontare quello che tutti abbiamo concordamente ritenuto sussistere come disagio sociale economico e sociale ma che siamo tutti d'accordo mi pare pure nel dire che con gli strumenti immaginati in questo momento da questo legislatore non si risolveranno ed allora io volevo soltanto fare una chiosa a queste considerazioni che ho trovato molto interessante anzi per dire la verità farne due la prima nasce da quella che sembrerebbe essere scusatemi l'espressione una sorta di blasfemia giuridica che a me è piaciuta molto cioè l'idea che la banca vende le quietanze per un civilista sarebbe quasi diciamo inorridisce al pensiero che la quietanza sia un oggetto di compravendita anziché quell'atto che il creditore è obbligato per legge a rilasciare al debitore che praga il proprio debito ma nell'accezione usata dall'avvocato Crivellari che ovviamente è persona di grande esperienza anzi probabilmente uno dei massimi esponenti del recupero crediti bancario del panorama degli ultimi decenni e assume un significato particolare perché è vero cioè ad un certo punto la situazione del debitore che non può pagare il proprio debito secondo il proprio valore nominale e cerca una quietanza che sia liberatoria e lo rimetta sul mercato a quel punto quella quietanza non è più l'attestazione del fatto che tu abbia pagato la tua obbligazione con tutti gli accessori fino a quel momento maturati ma diventa l'oggetto di una negoziazione dove c'è la determinazione di un prezzo e quindi a quel punto la quietanza diventa oggetto di negoziazione quindi bene sta l'espressione vendere la quietanza che significa trovare quel punto d'accordo fra il debitore che cerca di sdebitarsi è la banca che tenta di recuperare il recuperabile quel punto d'accordo che è difficile da trovare ma che ovviamente in ogni circostanza esiste il punto è essere talmente bravi da trovarlo poi un punto di ricaduta esiste sempre ma questa considerazione dà lo spunto alla riflessione conclusiva che volevo fare e cioè che sembra abbastanza evidente dal pensiero di una persona così esperta del mercato che il vero problema nella trattazione dei creditori morosi dei debitori morosi dei debitori a sofferenza deve collocarsi prima che il credito vada nella circolazione della cessione o delle cartolarizzazioni perché parlava prima le banche facevano morti e feriti le banche devono assumersi le responsabilità il fenomeno fiscale deve orientare perché fin tanto che la cosa accade all'interno della sfera che unisce il cliente al creditorio originario c'è un patrimonio informativo un interesse anche a conservare il rapporto una possibilità di modulare la risposta una capacità di trovare quel punto di ricaduta che per l'appunto è il prezzo della quietanza fra virgolette una capacità di metabolizzare fiscalmente il fenomeno che dopo non è più percorribile perché nel momento in cui il cliente diventa semplicemente un debitore che entra in un business plan nel quale il progetto di investimento prevede un certo tasso di operazioni nelle quali si spera che si recuperi tanto da compensare quella pacottiglia che sta dentro al portafoglio a quel punto è chiaro che il recuperatore del credito quello che farà è escutere la garanzia mentre fino a questo momento tutto sommato la garanzia resta patrimoniale che poi sia una garanzia reale che sia l'intero patrimonio del debitore che sia un credito chirografario ipotecario poco sposta è in qualche modo ancora oggetto di manovra fin tanto che c'è dentro che siamo dentro la sfera della banca per cui forse quello che veramente bisognerebbe immaginare è favorire degli strumenti di transazione o di negoziazione non dopo che il credito è ceduto e col cessionario che quel credito l'ha pagato quella cifra perché sta nell'ambito di un progetto secondo il quale se non pagasse quelle cifre non vi sarebbe la tenuta economica dell'operazione ma farlo prima quando la banca che è disposta a svendere il credito all'operatore invece chiude le porte in faccia al cliente e questo è un dato vero perché chiunque ha la percezione di come vede vanno le cose si rende conto che se il cliente va dalla banca a negoziare gli si chiederà sempre un qualcosa di più di quanto non sia il prezzo che la banca per quella stessa posizione creditoria è disposta ad accettare quando a comprarsi il credito è un terzo sconosciuto perché col terzo ci sta bene che io me lo svendomi eccetera al debitore devo imporre per l'appunto il fulcro della relazione dell'avvocato Crivellari il principio pacta sunt servanda vero ma se tanto quel credito io me lo sto per vendere e me lo sto per svendere perché non chiudo la posizione l'uno per cento in più con il cliente ed evito di creare una volatilizzazione di valore all'interno di questa operazione e invece questo non accade le banche ormai hanno chiuso le porte con i clienti in sofferenza praticamente non dialogano il giorno dopo il passaggio sofferenza il credito è già sul binario che va verso la cessione e dopodiché si dice sono i cessionari i soggetti brutti e cattivi forse non è esattamente così forse è vero che se invece si prevedessero dei meccanismi anteriori il legislatore si ponesse il problema di fare intervenire o di creare un luogo legale cioè in senso creato ex legge di negoziazione fra banca e cliente prima che il suo credito vada in circolo nel mercato degli NPL probabilmente in questo modo si riuscirebbe a dare una risposta a quei debitori volenterosi che una qualche intenzione di cercare di salvare la loro posizione ce l'hanno anziché no grazie grazie consiglio da Rigo devo dire che le considerazioni finali del avvocato Crivellari e di da Rigo li ringrazio perché mi hanno fatto tornare indietro di 35 anni all'inizio della mia professione quando io facevo esattamente quello che diceva Crivellari andavo nell'ufficio legale di una banca di stato parlavo con l'ufficio con il capo ufficio parlavamo del povero debitore ancora my likely to pay dicevamo ma come facciamo questo poveraccio a salvarlo e poi vabbè il mondo è corso è corso è corso è cambiato tutto fino a che si ricorderà Crivellari la transazione si faceva in the kitchen table del debitore fino ad arrivare adesso al livello a cui siamo arrivati fatta questa carrellata devo dire che tutto quello che abbiamo detto avvalora l'importanza di avviare questo osservatorio nel piedi di cui parlavamo soprattutto per approfondire tutte le tematiche ma anche questi due spunti che sono stati dati anche un po' un po' mi mette paura però da responsabile della commissione del tributario affrontiamolo vedere il fisco come attore però può può portare sicuramente una soluzione quindi l'osservatorio partirà sarà costituito da avvocati del fuoco di roma esperti nel settore che elaboreranno studi dossier da presentare alla politica alle istituzioni al cnf all'ocf e ovviamente si avverrà anche della collaborazione di esperti del settore quindi sono molto contento di questa prima giornata ci diamo sicuramente appuntamento per il prossimo anno o non appena sarà disponibile di una nuova direttiva o se ci dovesse essere qualche ulteriore novità impellente dottor Grimaldi che speriamo non ci sia perché continueremo nelle nelle nostre trattative ciascuno nel proprio nel proprio ruolo grazie ancora a tutti i colleghi al prossimo appuntamento grazie a tutti grazie a tutti